8 maggio che stupenda giornata ho trascorso l'intere mattina disteso sull'erba davanti alla mia casa sotto l'enorme platano che la protegge e la ricopre completamente con la sua ombra amo questo paese e amo viverci perché qui ho le mie radici queste profonde e delicate radici che legano un uomo alla terra in cui sono nati e morti i suoi antenati che lo legano a quel che si pensa e a quel che si mangia ai costumi come ai nutrimenti ai modi di dire locali alla cadenza dialettale dei contadini agli odori del suolo dei villaggi e dell'aria stessa amo la casa in cui sono cresciuto dalle mie finestre vedo la senna che scivola lungo il mio giardino dietro la strada e pare quasi entrare dentro la mia casa la grande e larga senna che va da rouen alle havre coperta di battelli che passano a sinistra laggiù rouen l'ampia città dai tetti azzurri sotto una quantità di appuntiti campanili gotici sono innumerevoli fragili o massicci dominati dalla guglia di bronzo della cattedrale e pieni di campane che suonano nell'aria azzurra delle belle mattine scagliando fino a me il loro dolce e lontano brontorio di ferro il loro canto di bronzo che la brezza mi porge tanto più forte o fievole secondo che si risveglio si assopisca come era bella la mattina verso le undici un lungo convoglio di battelli trainati da un rimorchiatore grosso come una mosca e che rantolava di fatica vomitando un fumo denso sfilò davanti alla mia inferriata dopo due golette inglesi il cui stendardo rosso ondeggiava contro il cielo veniva un superbo tre alberi brasiliano tutto bianco mirabilmente lustro e sfavillante lo salutai non so perché tanto mi fece piacere vederlo 12 maggio ho un po di febbre da qualche giorno mi sento sofferente o piuttosto mi sento triste da dove provengono quegli influssi misteriosi che cambiano in scoramento il nostro buon umore e la nostra serenità in angoscia si direbbe che l'aria l'aria invisibile sia piena di inconoscebili forze di cui subiamo la misteriosa vicinanza mi sveglio pieno di allegria con la voglia di cantare nella gola perché scendo lungo la riva del fiume e subito dopo una breve passeggiata rientro desolato come se qualche disgrazia mi aspettasse a casa perché è forse un brivido di freddo che sfiorando la mia pelle ha scosso i miei nervi e ha rabbuiato la mia anima è forse la forma delle nuvole o il colore del giorno il colore delle cose così mutevole che attraversando ai miei occhi ha sconvolto il mio pensiero chissà tutto quello che ci avvolge quello che vediamo senza guardarlo quello che sfioriamo senza riconoscerlo quello che tocchiamo senza percepirlo tutto quello in cui ci imbattiamo senza distinguerlo a su di noi sui nostri organi attraverso di loro sulle nostre idee sul nostro stesso cuore effetti rapidi sorprendenti e inesplicabili com'è profondo il mistero dell'invisibile non possiamo sondarlo con i nostri sensi miserevoli con i nostri occhi che non sanno scorgere né il troppo piccolo né il troppo grande né il troppo vicino né il troppo lontano negli abitatori di una stella né quelli di una goccia d'acqua con le nostre orecchie che ci ingannano perché ci trasmettono le vibrazioni dell'aria come note sonore sono delle fate che fanno il miracolo di cambiare in rumore il movimento e mediante questa metamorfosi danno origine alla musica che trasforma incanto l'agitazione muta della natura col nostro odorato più debole di quello del cane con il nostro gusto che può a malapena distinguere le date un vino ah se avessimo altri organi che realizzassero in nostro favore altri miracoli quante cose nuove potremmo scoprire intorno a noi 16 maggio sono proprio malato eppure stavo così bene il mese scorso alla febbre una febbre atroce o piuttosto un'agitazione febbrile che rende la mia anima sofferente come il mio corpo ho continuamente la sensazione spaventosa di un pericolo incombente il timore di una disgrazia che viene o della morte che si avvicina un presentimento che è senza dubbio l'attacco di un male ancora sconosciuto che germina nel sangue e nella carne 18 maggio ho appena consultato un medico perché non potevo più dormire mi ha trovato il polso rapido le pupille dilatate i nervi eccitati ma senza alcun sintomo allarmante devo assoggettarmi a fare delle docce e berebbero un muro di potassio 25 maggio nessun cambiamento il mio stato veramente è bizzarro man mano che si avvicina la sera un'inquietudine incomprensibile mi pervade come se la notte nascondesse per me una minaccia terribile mangio presto poi cerco di leggere ma non riesco a comprendere le parole distingo appena le lettere mi metto allora a passeggiare nel mio salone in lungo e in largo sotto l'oppressione di una paura confusa e irresistibile la paura del sonno e la paura del letto verso le 10 salgo nella mia camera appena entrato da due mandate di chiave metto il chiavistello di che cosa ho paura non temevo niente fino ad ora apro gli armadi guardo sotto il letto ascolto ascolto che cosa è strano che un semplice malessere forse un disturbo circolatorio l'irritazione di una terminazione nervosa un po di congestione una minuscola alterazione del funzionamento così imperfetto e delicato della nostra macchina vivente possa trasformare il più allegro degli uomini in un malinconico e il più ardimentoso in un codardo poi mi corico e attendo il sonno come se attendesse il boia lo aspetto con il terrore della sua venuta e il mio cuore batte le mie gambe fremono e tutto il mio corpo sussulta nel caldo delle lenzuola fino a che non cado di colpo nel sonno come ci si setta per annegarvisi in un pozzo di acqua stagnante io non lo sento arrivare come un tempo questo sonno perfido nascosto accanto a me che mi spia che sta per afferrarmi la testa per chiudermi gli occhi per annientarmi così dormo per molto tempo due o tre ore poi un sogno anzi un incubo mi stringe mi rendo conto di essere a letto e di dormire lo sento e ne sono consapevole ma sento anche che qualcuno mi si avvicina mi guarda mi tocca sale sul mio letto si inginocchia sul mio petto mi prende il collo tra le mani e stringe stringe con tutta la sua forza per strangolarmi io mi dibatto legato a quell'atrocia impotenza che ci paralizza nei sogni vorrei gridare non posso vorrei muovermi non posso farlo e cerco con degli sforzi spaventosi ansimando di rigirarmi di respingere quest'essere che mi opprime che mi soffoca ma non posso farlo improvvisamente mi sveglio sconvolto coperto di sudore accendo una candela sono solo dopo questa crisi che si ripete ogni notte dormo infine tranquillamente fino all'aurora il mio stato si è ancora aggravato che ho dunque il bromuro non fa effetto le docce nemmeno nel pomeriggio per affaticare il mio corpo già così stanco sono andato a fare un giro nella foresta di omar ho creduto dapprima che l'aria fresca leggera e dolce piena di odore d'erba e di foglie mi riversasse nelle vene sangue nuovo nel cuore un'energia nuova presi un grande sentiero di caccia poi girai verso la buil per un viale stretto tra due schiere di alberi smisuratamente alti che interponevano un tetto verde spesso quasi nero tra il cielo e me un brivido mi colse immediatamente non un brivido di freddo ma uno strano brivido d'angoscia affrettai il passo irrequieto per essere solo in quel bosco impaurito senza ragione stupidamente dalla profonda solitudine di colpo mi parve di essere seguito che qualcuno mi tallonasse così vicino da toccarmi mi voltai bruscamente non ero solo non vidi dietro di me che il diritto e largo viale profondo angosciosamente vuoto che anche dall'altro lato si stendeva a perdita d'occhio identico spaventoso chiusi gli occhi perché e mi mise a girare su un pallone velocissimo come una trottola stavo quasi per cadere riaprì gli occhi gli alberi danzavano la terra ondeggiava dovetti sedermi poi non sapevo più da dove ero venuto bizzarra idea bizzarra non sapevo più niente mi diresti sul lato che si trovava alla mia destra e tornai sul sentiero che mi aveva condotto in mezzo alla foresta 3 giugno la notte è stata orribile sto per andare via per qualche settimana un viaggio senza dubbio mi rimetterà in salute 2 luglio sono rientrato guarito d'altra parte ho fatto un'escursione affascinante ho visto monse michel che non conoscevo che visione quando si arriva come me ad avranché sul finire del giorno l'abitato si trova su una collina e mi hanno condotto ai giardini pubblici all'estremità della città ho lanciato un grido di stupore una baia smisurata si stendeva davanti a me a perdita d'occhio tra due coste allargate che si perdono in lontananza tra le brume e in mezzo a questa immensa baia gialla sotto un cielo d'oro e di luce si elevava scuro e aguzzo un monte strano in mezzo alle sabbie il sole era appena scomparso e sull'orizzonte ancora fiammeggiante si disegnava il profilo di questa fantastica rupe che porta sulla cima un fantastico monumento all'alba mi mossi verso di lei il mare era basso come la sera del giorno prima e guardavo ergersi davanti a me man mano che mi avvicinavo la sorprendente abbazia dopo diverse ore di cammino raggiunsi l'enorme blocco di pietre che porta la piccola città dominata dalla grande chiesa dopo essermi inerpicato sulla strada stretta e ripida entrai nella più ammirevole dimora gotica costruita da dio sulla terra vasta come una città piena di basse sale schiacciate dalle volte e di alte gallerie che sostengono fragili colonne entrai in quel gigantesco gioiello di granito leggero come un merletto coperto di torri di agili guglie dove salgono delle scale a chiocciola che lanciano nel cielo blu del giorno nel cielo nero della notte le loro teste bizzarre irte di chimere di diavoli di animali fantastici di fiori mostruosi e unite l'una all'altra da sottili archi lavorati quando arrivai sulla cima dissi al monaco che mi accompagnava padre come dovete star bene qui lui rispose c'è molto vento signore e ci mettemmo a parlare mentre guardavamo salire il mare che correva sulla sabbia e lo ricopriva di una corazza d'acciaio così il monaco mi raccontò delle storie tutte le vecchie storie di quel luogo leggende e ancora leggende una di esse mi colpì in modo particolare la gente del paese quelle del monte asseriscono che si senta parlare di notte tra le sabbie perché si sentono belare due capre una con voce forte l'altra con voce fievole gli increduli affermano che sono le grida degli uccelli di mare che assomigliano talvolta a belati e talvolta a lamenti umani ma i pescatori che rientrano a casa più tardi giurano di aver incontrato girandosi sulle dune tra due maree intorno alla piccola città gettata così lontano dal mondo un vecchio pastore la cui testa coperta dal mantello non appare visibile e che conduce camminando davanti a loro un capro dal viso umano e una capra con una testa di donna entrambi con lunghi capelli bianchi che parlano senza tregua lamentandosi in una lingua sconosciuta e che poi smettono improvvisamente di gridare per belare con tutta la loro forza chiesi al monaco ci credete mormorò non lo so continuai se esistessero sulla terra altri esseri oltre a noi perché mai non li conosceremmo da tempo perché voi non li avreste mai visti perché non li avrei mai visti neanch'io rispose non è forse vero che vediamo solo la centomillesima parte di quello che esiste ecco qua il vento che è la più grande forza della natura che fa cadere gli uomini abbatte gli edifici sradica gli alberi solleva il mare in montagne d'acqua distrugge le rocce scaglia contro gli scogli i grandi bastimenti il vento che uccide che sibila che geme che mugisce l'avete mai visto e potete vederlo tuttavia esiste tacqui di fronte a quel semplice ragionamento quest'uomo era un saggio o forse uno sciocco non avrei potuto affermarlo con certezza ma tacqui quello che stava dicendo l'avevo pensato spesso tre luglio ho dormito male certo c'è qui un influsso terribile perché il mio cocchiere soffre del mio stesso male ieri nel tornare a casa avevo notato il suo pallore singolare gli domandai cosa avete già ho che non riesco più a dormire signore sono le mie notti che mangiano i miei giorni dalla partenza del signore mi ha preso come un sortilegio altri domestici intanto stanno bene ma io ho una gran paura di avere un altro attacco 4 luglio certamente sono stato ripreso i miei vecchi incubi ritornano stanotte ho sentito qualcuno piegato su di me e che con la bocca sulla mia beveva la mia vita dalle mie labbra sì la succhiava nella mia gola come avrebbe fatto una sanguisuga poi si è alzato sazio e allora mi sono svegliato talmente distrutto rotto annientato da non potermi più muovere se continuerai in questo modo ancora per qualche giorno ripartirò di sicuro 5 luglio ho perso la ragione quello che è successo la scorsa notte è talmente strano che la mia testa si smarrisce quando vi penso come faccio adesso ogni sera avevo chiuso la porta a chiave poi avendo sete ho bevuto mezzo bicchiere d'acqua e ho notato per caso che la caraffa era piena fino al tappo di cristallo mi coricai subito dopo e ricardi in uno dei miei sogni spaventosi da cui fui liberato dopo due ore circa da un'emozione ancora più terribile immaginate un uomo addormentato che venga assassinato e che si svegli con un coltello in un polmone che rantoli coperto di sangue che non possa più respirare che sta morendo senza comprendere ecco è così dopo aver infine riacquistato la ragione ebbe nuovamente sete accesi una candela e mi diressi verso il tavolo sul quale era appoggiata la mia caraffa ma sollevai piegandola verso il bicchiere non scese niente era vuota era completamente vuota da prima non compresi poi di colpo sentì un'emozione così terribile che dovetti sedermi o piuttosto che caddi su una sedia poi mi risollevai con un salto per guardarmi intorno poi mi sedetti di nuovo smarrito per lo stupore per la paura davanti al cristallo trasparente lo contemplavo con gli occhi fissi cercando di indovinare le mie mani tremavano qualcuno aveva dunque bevuto l'acqua chi io senza dubbio potevo essere stato solo io ma allora io ero sonnambulo vivevo senza saperlo di quella doppia vita misteriosa che fa pensare che vi siano due esseri in noi o che un essere estraneo inconoscibile invisibile animi a momenti quando la nostra anima intorpidita il nostro corpo prigioniero che obbedisce a quest'altro come a noi stessi più che a noi stessi chi comprenderà la mia angoscia orribile chi comprenderà l'emozione di un uomo sano di spirito vendesto pieno di senno che guarda spaventato attraverso il vetro di una caraffa un poco d'acqua scomparsa mentre lui dormiva e così rimasi là fino a giorno senza osare di mettermi a letto 6 luglio sto impazzendo qualcuno ha ancora bevuto la mia caraffa stanotte o piuttosto io stesso l'ho bevuta ma sono stato io chi sarà chi mio dio sto impazzendo chi mi salverà 10 luglio ho appena fatto degli esperimenti sorprendenti certamente devo essere pazzo ma tuttavia il 6 luglio prima di andare a letto ho sistemato sul mio tavolo vino latte acqua pane e fragole qualcuno ha bevuto io ho bevuto tutta l'acqua e un po di latte non sono stati toccati nel vino nel pane nelle fragole il 7 luglio ho ripetuto lo stesso esperimento che ha dato il medesimo risultato l'8 luglio ho eliminato l'acqua e il latte non è stato toccato niente il 9 luglio infine ho rimesso sul tavolo solamente l'acqua e il latte avendo cura di avvolgere le caraffe con panni di mussola bianca e di legare i tappi poi ho sporcato le mie labbra la barba e le mani con della mina di piombo e sono andato a letto invincibile sonno mi ha colto seguito presto dall'atroce risveglio non avevo spostato niente i miei stessi vestiti non recamano segni mi lanciai verso il tavolo i panni che chiudevano le bottiglie erano rimasti immacolati slegai gli spaghi tremando di paura tutta l'acqua era stata bevuta tutto il latte era stato bevuto oh mio dio parto subito per parigi 12 luglio parigi avevo dunque perso la testa i giorni scorsi dovevo essere lo zibbello della mia immaginazione agitata a meno che io non sia veramente sonnambulo o che abbia subito uno di quegli influssi evidenti ma inesplicabili che si chiamano suggestioni in ogni caso il mio vaneggiare rassentava la demenza e 24 ore di parigi sono bastate per rimettermi in sesto ieri dopo varie escursioni e visite che mi hanno fatto circolare nell'anima un'aria nuova e vivificante ho concluso la mia serata al teatro francois vi si rappresentava una commedia di alexandre dumas figlio e quello spirito vivace e robusto ha completato la mia guarigione certo la solitudine è pericolosa per le menti che lavorano abbiamo bisogno attorno a noi di uomini che pensino e che parlino quando rimaniamo soli per molto tempo popoliamo il vuoto di fantasmi sono rientrato in albergo molto allegro attraverso i boulevard nel pieno della folla pensavo non senza ironia ai miei terrori alle mie supposizioni della settimana passata perché ho creduto sì ho creduto che un essere invisibile abitasse sotto il mio tetto com'è debole la nostra testa e come si sgomenta e smarrisce subito quando un piccolo fatto incomprensibile ci colpisce invece di concludere con queste semplici parole non capisco perché la causa mi sfugge immaginiamo immediatamente i misteri spaventosi e potenze soprannaturali 14 luglio festa della repubblica sono andato a spasso per le strade i petardi e le bandiere mi divertivano come un bambino è tuttavia molto stupido essere allegri a data fissa per decreto del governo il popolo è un greggio imbecille talvolta stupidamente paziente talvolta ferocemente ribelle gli si dice divertiti lui si diverte gli si dice va a combattere il tuo vicino lui va a combattere gli si dice vota per l'imperatore lui vota per l'imperatore poi gli si dice vota per la repubblica e lui vota per la repubblica quelli che lo dirigono sono altrettanto cretini ma invece di obbedire a degli uomini obbediscono a dei principi che non possono essere che sciocchi sterili e falsi per il fatto stesso di essere principi cioè idee reputate certe e immutabili in questo mondo di cui non si assicuri di niente poiché la luce è un'illusione poiché il rumore è un'illusione 16 luglio ho visto ieri cose che mi hanno fortemente turbato pranzavo da mia cugina madame sablé il cui marito comanda il 76esimo cacciatore a limoges mi trovavo a casa sua con due giovani donne di cui una ha sposato un medico il dottor parent che si occupa molto delle malattie nervose e delle manifestazioni straordinarie che producono proprio ora gli esperimenti sull'ipnotismo e la suggestione il dottore ci raccontò a lungo i risultati prodigiosi ottenuti da alcuni studiosi inglesi e dai medici della scuola di nancy i fatti che gli espose mi sembrarono talmente bizzarri che mi dichiarai del tutto incredulo noi siamo affermava sul punto di scoprire uno dei più importanti segreti della natura voglio dire uno dei suoi più importanti segreti su questa terra perché ne ha certo anche di maggiore importanza laggiù nelle stelle da quando l'uomo pensa da quando sa dire scrivere il suo pensiero si sente sfiorato da un mistero impenetrabile da parte dei suoi sensi grossolani e imperfetti e si sforza di supplire con lo sforzo della sua intelligenza all'impotenza dei suoi organi quando quest'intelligenza rimaneva ancora allo stato rudimentale l'ossessione dei fenomeni invisibili ha preso delle forme stupidamente spaventose da questo sono nate le credenze popolari sul soprannaturale le leggende sugli spiriti erranti le fate gli gnomi e spettri direi anche la leggenda di dio perché le nostre concezioni dell'operaio creatore da qualunque religione ci provengano sono proprio le invenzioni più mediocre le più stupide le più inaccettabili uscite dal cervello impaurito delle creature nulla di più vero della frase di voltaire dio ha fatto l'uomo a sua immagine ma l'uomo non è stato di meno ma da un po più di un secolo sembra di avere il presentimento di qualcosa di nuovo mesmer e alcuni altri ci hanno messo su una strada inattesa e così siamo arrivati davvero da quattro o cinque anni soprattutto a risultati sorprendenti mia cugina anche lei molto incredula sorrideva il dottor parent le disse volete che cerchi di addormentarvi signora sì certo lei si ha detto su una poltrona e lui cominciò a guardarla fissamente incantandola io mi sentì subito un po' turbato col cuore che batteva la gola stretta vedevo gli occhi di madame sablé appesantirsi la sua bocca contrarsi il suo petto ansimare dopo dieci minuti si addormentò mettetevi dietro di lei disse il medico mi sedette dietro di lei lui le mise tra le mani un biglietto da visita dicendole questo è uno specchio che cosa vi vedete dentro lei rispose vedo mio cugino che cosa fa si attorciglia i baffi e ora tira fuori dalla tasca una fotografia che fotografia la sua era vero la fotografia mi era stata consegnata la sera stessa in albergo come appare in questo ritratto sta in piedi con il cappello in mano dunque lei vedeva in questa carta in questo biglietto bianco come se avesse guardato in uno specchio le ragazze spaventate dicevano basta 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 ma il dottore ordinò vi alzerete domani alle otto poi andrete a trovare vostro cugino nel suo albergo e lo supplicherete di prestarvi 5.000 franchi che vostro marito vi domanda e che vi richiederà al suo prossimo viaggio poi la risvegliò entrando in albergo pensai a questa curiosa seduta e mi assalirono dei dubbi non certo sull'assoluta insospettabile buona fede di mia cugina che conoscevo come una sorella sin dall'infanzia ma su un possibile trucco del dottore non nascondeva forse nella mano uno specchio che mostrava la giovane donna addormentata insieme al suo biglietto da visita i prestigiatori di professione fanno cose altrettanto singolari rientrai dunque e mi coricai ebbene stamattina verso le otto e mezzo fui svegliato dal mio domestico che mi disse c'è madame sablé che chiede di parlare al signore subito mi vestì in fretta e la ricevetti si sedette molto turbata con gli occhi bassi e senza alzare la veletta mi disse caro cugino ho un grande piacere da chiedervi quale cugina mi imbarazza molto dirvelo ma tuttavia è necessario ho bisogno assolutamente bisogno di 5.000 franchi su via voi sì io ho piuttosto mio marito che mi ha chiesto di trovarli ero così stupefatto che balbettavo le risposte mi chiedevo se veramente lei non si fosse burlata di me con il dottor parent se questa non fosse una semplice farsa preparata in anticipo e molto ben interpretata ma guardandola con attenzione tutti i miei dubbi si dissiparono infatti tremava d'angoscia tanto questo passo le era doloroso e compresi che aveva la gola piena di singhiozzi sapevo che era molto ricca e ribattei come vostro marito non ha 5.000 franchi a sua disposizione vediamo riflettete siete sicura che lui vi abbia incaricato di chiedermeli esitò per qualche secondo come se avesse fatto un grande sforzo per cercare nei suoi ricordi poi rispose sì sì ne sono sicura vi ha scritto esitò ancora riflettendo immaginai la fatica tormentosa del suo pensiero lei non sapeva lei sapeva soltanto che doveva chiedermi in prestito 5.000 franchi per suo marito quindi oso mentire sì mi ha scritto quando non mi avete detto niente ieri ho ricevuto la sua lettera stamattina potete mostrarmela no 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 conteneva delle cose intime troppo personali io l'ho io l'ho bruciata allora vuol dire che vostro marito fa dei debiti esitò ancora poi mormorò non lo so dissi bruscamente è che non dispongo di 5.000 franchi in questo momento cara cugina lei gettò una sorta di grido di sofferenza oh oh ve ne supplico se voi sapeste come soffro io ne ho bisogno oggi ebbi pietà di lei vi avrete presto ve lo giuro gridò oh grazie grazie come siete buono ripresi vi ricordate di ciò che è avvenuto ieri a casa vostra sì vi ricordate che il dottor parent vi ha addormentato sì ebbene vi ha ordinato di venire a chiedermi stamattina 5.000 franchi e voi obbedite in questo momento a questa suggestione lei pensò per alcuni secondi e rispose ma è mio marito che richiede per un'ora intera cercai di convincerla ma non ci riuscì quando fu andata via corsi dal dottore stava per uscire mi ascoltò sorridendo poi disse ci credete ora sì è inevitabile andiamo dalla vostra parente lei sonnecchiava già su una poltrona sdraio prostrata dalla stanchezza il medico le prese il polso la guardò per un po con una mano levata verso i suoi occhi che lei chiuse poco a poco sotto lo sforzo insostenibile di quella potenza magnetica quando fu addormentata vostro marito non ha più bisogno di 5.000 franchi state per dimenticare di aver pregato vostro cugino di prestarveli e se ve ne parlerà non capirete poi lo svegliò trassi dalla mia tasca un portafoglio ecco mia cara cugina ciò che mi avete chiesto stamattina lei fu talmente sorpresa che non osai insistere cercai di rinfrescarle la memoria ma lei negò con forza credette che mi burlassi di lei e mancò poco che andasse in collera ecco sono appena tornato a casa non ho potuto pranzare tanto questa esperienza mi ha sconvolto 19 luglio molte persone a cui ho raccontato questa avventura mi hanno preso in giro non so più che pensare il saggio dice è possibile 21 luglio sono stato a pranzo a bougival poi ho passato la sera al ballo dei cannottieri certo tutto dipende dai luoghi dall'ambiente credere al soprannaturale nell'isola della grenuille sarebbe il colmo della follia ma in cima al mont saint michel o in india noi subiamo spaventosamente l'influenza di ciò che ci circonda tornerò a casa la settimana prossima 30 luglio sono tornato a casa da ieri va tutto bene 2 agosto niente di nuovo fa un tempo superbo passo le mie giornate a guardar scorrere la senna 4 agosto discussioni tra i miei domestici affermano che di notte i bicchieri si rompano da soli nella credenza il cameriere accusa la cuoca chi accusa la lavandaia chi accusa gli altri due chi è il colpevole bravo chi lo scoprirà sei agosto questa volta non sono pazzo ho visto ho visto ho visto non posso più dubitare ho visto ho ancora freddo fino nelle unghie ho ancora paura fino alle midolle ho visto passeggiavo alle due all'aria aperta nella mia aiuola di rosai nel viale dei rosai d'autunno che cominciano a fiorire mentre mi fermavo a guardare un gigante delle battaglie che portava tra i fiori magnifici ho visto ho visto distintamente molto vicino a me il gambo di una di queste rose piegarsi come se una mano invisibile l'avesse ritorto poi spezzarsi come se la stessa mano l'avesse colto poi il fiore si sollevò seguendo una curva che avrebbe descritto un braccio nel portarla verso una bocca rimase sospeso nell'aria trasparente sola immobile terrificante macchia rossa a tre passi dai miei occhi smarrito mi gettai su di esso per prenderlo non trovai niente era scomparso allora fui preso da una collera furiosa contro me stesso perché non è permesso ad un uomo ragionevole e serio avere simili allucinazioni ma si trattava proprio di un allucinazione mi voltai per cercare il gambo e lo trovai immediatamente sull'arbusto spezzato di fresco tra le due altre rose rimaste sul ramo allora rientrari a casa con l'animo sconvolto perché sono sicuro ora sicuro come dell'alternanza dei giorni e delle notti che esiste vicino a me un essere invisibile che si nutre di latte e di acqua e che può toccare le cose prenderle e cambiarle di posto dotato di conseguenza di una natura materiale benché impercettibile per i nostri sensi e che abita come me sotto il mio tetto 7 agosto ho dormito tranquillo lui ha bevuto dalla mia caraffa ma non ha turbato il mio sonno mi chiedo se sono pazzo passeggiando talvolta sotto il sole lungo il fiume mi sono venuti dei dubbi sulla mia ragione non dei dubbi vaghi come ne avevo fino a quel momento ma bensì dubbi precisi assoluti ho visto dei pazzi ne ho conosciuto che restavano intelligenti lucidi capaci di veder chiaro anche su tutte le cose della vita tranne che su un punto parlavano di tutto con chiarezza con elasticità con profondità e improvvisamente il loro pensiero toccando lo scoglio della loro follia andava in pezzi si sparpagliava e sprofondava nell'oceano spaventoso e furioso pieno di onde saltellanti di nebbie di burrasche che viene chiamato demenza certo mi crederei folle assolutamente folle se non ne fossi cosciente se non conoscessi perfettamente il mio stato se non lo sondassi analizzandolo in modo completamente lucido io non sarei dunque che un allucinato che ragiona una turbolenza sconosciuta si sarebbe prodotta nel mio cervello una di quelle turbolenze che cercano di annotare e di precisare oggi i fisiologi e questa turbolenza avrebbe determinato nel mio spirito nell'ordine e nella logica delle mie idee una spaccatura profonda fenomeni simili hanno luogo nel sogno che ci conduce attraverso le fantasmagorie più inverosimili senza che ne siamo sorpresi perché l'apparecchio verificatore perché il senso del controllo è addormentato mentre la facoltà immaginativa sveglia e lavora non può essere che uno dei tocchi impercettibili della tastiera cerebrale si trovi paralizzato dentro di me ci sono uomini che a seguito di un incidente perdono la memoria dei nomi propri o dei verbi o dei numeri oppure soltanto delle date gli indirizzi di tutte le particelle del pensiero sono oggi provati ora che ci sarebbe di strano se la mia facoltà di controllare l'irrealtà di alcune allucinazioni si trovasse intorpidita in questo momento pensavo a tutto questo seguendo il bordo dell'acqua il sole copriva di chiaro il fiume rendeva la terra deliziosa riempiva il mio sguardo di amore per la vita per le rondini la cui agilità è una gioia dei miei occhi per le erbe della riva il cui fremito è un piacere delle mie orecchie a poco a poco tuttavia un malessere inesplicabile mi penetrava una forza mi pareva una forza occulta mi intorpidiva mi bloccava e mi impediva di andare più lontano mi richiamava indietro provavo il bisogno doloroso di rientrare che vi opprime quando si è lasciato in casa un malato che si ama e quando vi coglie il presentimento di un aggravarsi della sua malattia dunque rientrai nel mio malgrado sicuro che avrai trovato in casa una cattiva notizia una lettera o un telegramma non c'era niente rimasi più sorpreso e più inquieto che se avessi avuto di nuovo qualche visione fantastica 9 agosto niente ma ho paura 10 agosto niente ma che accadrà domani 11 agosto ancora niente non posso restare in casa con questo timore e questo pensiero penetrati nella mia anima vado via 12 agosto alle 10 di sera per tutto il giorno ho desiderato andar via non ho potuto ho desiderato compiere quest'atto di libertà così facile così semplice uscire salire sulla mia carrozza per raggiungere la sua non ho potuto perché 13 agosto quando si è colpiti da certe malattie tutte le risorse dell'essere fisico sembrano spezzate tutte le energie annullate tutti i muscoli indeboliti le ossa sembrano divenute molli come la carne e la carne liquida come l'acqua io provo questo nel mio essere morale in una maniera strana e desolante non ho più nessuna forza nessun coraggio nessun dominio su di me nessun potere neanche di mettere in moto la mia volontà non posso più volere ma qualcuno vuole per me e io obbedisco 14 agosto sono perduto qualcuno possiede la mia anima e la governa qualcuno ordina tutti i miei atti tutti i miei movimenti tutti i miei pensieri non ho più potere su di me non sono che uno spettatore schiavo e terrorizzato di tutte le cose che faccio desidero uscire non posso lui non vuole e io rimango smarrito nella poltrona in cui mi tiene seduto desidero soltanto alzarmi sollevarmi per potermi credere padrone di me stesso non posso sono inchiodato alla mia sedia e la sedia incollata al suolo in maniera tale che nessuna forza si potrebbe sollevare ma improvvisamente devo 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 andare in fondo al mio giardino per raccogliere fragole per mangiarle ci vado raccolgo fragole e le mangio oh mio dio mio dio mio dio mio dio c'è un dio e se ce n'è uno liberami salvami soccorrimi perdona pietà grazie salvami quale sofferenza quale tortura quale orrore 15 agosto certamente ecco come era posseduta e dominata la mia povera cugina quando era venuta a chiedermi in prestito 5.000 franchi subiva una volontà estranea entrata in lei come un'altra anima come un'altra anima parassita e dominatrice forse il mondo sta per finire ma colui che mi governa chi chi è questo invisibile questo inconoscibile questo vagabondo di una razza soprannaturale dunque gli invisibili esistono allora come mai dall'origine del mondo non si sono ancora manifestati in modo preciso così come fanno con me non ho mai letto niente che assomiglia a ciò che è accaduto nella mia dimora se potessi lasciarla se potessi andarmene fuggire non tornare sarai salvo ma non posso ho potuto liberarmi oggi per due ore come un prisioniero che travi aperta per caso la porta della sua cella ho sentito di essere libero improvvisamente e che lui era lontano ho ordinato di attaccare in fretta i cavalli e ho raggiunto a guen che gioia poter dire a un uomo che obbedisce andate a guen mi sono fatto fermare davanti alla biblioteca e ho pregato che mi prestassero il grande trattato del dottor hermann hersthaus sugli abitanti sconosciuti del mondo antico e moderno poi al momento di salire nel mio coupé volevo dire alla stazione e ho gridato non ho detto ho gridato con una voce così forte da far voltare i passanti a casa e sono caduto folle d'angoscia sul cuscino della mia vettura mi aveva ritrovato e ripreso mi aveva ritrovato e ripreso 17 agosto che notte che notte e tuttavia mi sembra che dovrei rallegrarmi fino a luna del mattino ho letto hermann hersthaus dottore in filosofia e in teogonia ha scritto la storia le manifestazioni di tutti gli esseri invisibili che vagano intorno all'uomo che sono sognati da lui descrive le loro origini il loro dominio la loro potenza ma nessuno di loro assomiglia a quello che mi pervade si direbbe che l'uomo da quando ha avuto la capacità di pensare ha previsto e temuto un essere nuovo più forte di lui suo successore in questo mondo e che sentendolo vicino non potendo prevedere la natura di questo padrone ha creato nel suo terrore tutto il popolo fantastico degli esseri occulti fantasmi incerti nati dalla paura dunque dopo aver letto fino a luna del mattino ero andato poi a sedermi presso la mia finestra aperta per infrescarmi la fronte e il pensiero al vento calmo dell'oscurità e stava bene l'aria era tiepida come mi sarebbe piaciuta quella notte in un altro momento non c'era luna le stelle avevano sullo sfondo del cielo nero scintillì i frementi chi abita quei monti quali forme quali viventi quali animali quale piante ci sono laggiù quelli che pensano in quegli universi lontani che cosa sanno più di noi uno di loro un giorno l'altro attraversando lo spazio non apparirà forse sulla nostra terra per conquistarla come normanni un tempo attraversarono il mare per asservire popoli più deboli siamo così fragili così disarmati così ignoranti così piccoli noi altri su questo granello di fango che gira diluito in una goccia d'acqua mi assopì sognando così al vento fresco della sera dunque dopo aver dormito per circa 40 minuti riaprì gli occhi senza fare un movimento svegliato da non so quale emozione confusa e bizzarra non vidi niente da prima poi improvvisamente mi sembrò che una pagina del libro rimasto aperto sul mio tavolo si fosse appena girata da sola nessun soffio d'aria era entrato dalla mia finestra ne fui sorpreso rimasi in attesa circa quattro minuti dopo vidi vidi sì vidi con i miei occhi un'altra pagina sollevarsi e ricadere sulla precedente come se un dito l'avesse sfogliata la mia poltrona era vuota sembrava vuota ma compresi che era là lui seduto al mio posto e che leggeva con un balzo furioso un balzo da bestia ribelle che sta per sventrare il suo domatore attraversai la mia camera per rafferrarlo per stringerlo per ucciderlo ma la mia sedia prima che l'avessi raggiunto si servisciò come se qualcuno fosse fuggito davanti a me il tavolo oscillò la lampada cadde e si spense e la finestra si chiuse come se un malfattore sorpreso si fosse lanciato nelle notte prendendo a piene mani battenti dunque si era salvato aveva avuto paura paura di me lui allora allora domani o dopo o in qualunque altro giorno io potrò dunque tenerlo sotto i miei pugni e schiacciarlo contro il suolo forse che i cani talvolta non mordono e non strangolano i loro padroni 18 agosto ho meditato per tutto il giorno o sì io ora gli obbedirò darò consenziente ai suoi stimoli apparirò umile sottomesso dimoroso lui è il più forte ma l'ora verrà 19 agosto so 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 tutto ho appena letto questo nella revue du monde scientifique una notizia piuttosto curiosa arrivata da rio de janeiro una follia una epidemia di follia paragonabili alle pazzie contagiose che colpirono i popoli d'europa nel medioevo infierisce in questo momento nella provincia di san paolo gli abitanti smarriti lasciano le loro case disartano i loro villaggi abbandonano le loro culture dicendosi perseguitati posseduti governati come bestiame umano da esseri invisibili benché tangibili una sorta di vampiri che si nutrono della loro vita durante il sonno e che bevono inoltre acqua e latte senza sembrar toccare nessun altro alimento il professor don pedro enriquez accompagnato da parecchi sapienti medici è partito per la provincia di san paolo al fine di studiare sul posto le origini e le manifestazioni di questa sorprendente follia e di proporre all'imperatore le misure che gli sembreranno più appropriate per richiamare alla ragione quelle popolazioni deliranti mi ricordo mi ricordo il bel trealberi brasiliano che passò sotto le mie finestre risalendo la senna lo scorso 8 maggio l'avevo trovato così grazioso così bianco così allegro l'essere si trovava sopra provenendo da laggiù dove la sua razza è nata e così mi ha visto ha visto anche la mia casa bianca ed è saltato dalla nave sulla riva oh mio dio ora lo so lo so lo immagino il regno del uomo è finito è venuto colui che prevedevano i primi terrori dei popoli primitivi colui che esorcizzavano i sacerdoti inquieti e gli stregoni evocavano nelle notti scure senza vederlo apparire ancora a cui i presentimenti dei padroni effimeri del mondo prestarono tutte le forme mostruose o graziose degli ignomi degli spiriti dei geni delle fate dei folletti dopo le grossolane concezioni della paura primitiva uomini più perspicaci l'hanno previsto più chiaramente mesmer l'aveva indovinato e i medici da da dieci anni hanno scoperto in modo preciso la natura della sua potenza prima che l'avesse esercitato lui stesso costoro hanno giocato con l'arma del nuovo signore il dominio di una misteriosa volontà sull'anima umana divenuta schiava hanno chiamato questa cosa magnetismo ipnotismo suggestione che ne so io li ho visti divertirsi come bambini imprudenti con questo orribile potere venturati noi sventurato l'uomo lui è venuto il il come si chiama mi sembra che mi gridi il suo nome ma io non lo sento il sì lui lo grida io ascolto non posso ripete l'orla ho sentito l'orla è lui l'orla è venuto l'avvoltoio ha mangiato la colomba il lupo ha mangiato la pecora il leone ha divorato il bufalo dalle corne a guzze l'uomo ha ucciso il leone con la freccia con la clava con la polvere da sparo ma l'orla sta per fare dell'uomo ciò che noi abbiamo fatto del cavallo e del bue la sua cosa il suo servo il suo nutrimento con il solo potere della sua volontà sventurati noi tuttavia l'animale talvolta si rivolta e uccide colui che l'ha domato anch'io voglio potrei ma bisogna conoscerlo toccarlo vederlo i sapienti dicono che l'occhio della bestia differente dal nostro non distingue come il nostro e così il mio occhio non può distinguere il nuovo avvenuto che mi opprime perché mi ricordo ora le parole del monaco di mont saint michel non è vero non è forse vero che vediamo solo la centomillesima parte di quello che esiste ecco qua il vento che è la più grande forza della natura che fa cadere gli uomini abbatte gli edifici sradica gli alberi solleva il mare in montagna d'acqua distrugge le rocce e scaglia contro gli scogli i grandi bastimenti il vento che uccide che sibila che geme che muggisce avete mai visto e potete vederlo tuttavia esiste e pensavo ancora il mio occhio è così deboli così imperfetto che non distingue neanche i corpi duri e sono trasparenti come il vetro è un vetro senza un velo di amalgama attraversi il mio cammino e lui mi ci fa gettare sopra come un uccello entrato in una stanza si rompe il capo sui vetri mille cose inoltre lo ingannano e lo sviano che c'è di strano allora se non può vedere affatto un corpo nuovo che è attraversato dalla luce un essere nuovo perché no doveva venire sicuramente perché dovremmo essere gli ultimi noi non lo distinguiamo affatto così come tutti gli altri create prima di noi è che la sua natura è più perfetta il suo corpo più fine più rifinito del nostro è il nostro così debole così maldestramente concepito ingombro di organi sempre stanchi sempre sollecitati come ingranaggi troppo complessi del nostro che vive come una pianta e come una bestia nutriendosi faticosamente d'aria d'erba di carne macchina animale in preda alle malattie alle deformazioni alle putrefazioni asmatica mal regolata primitiva e bizzarra ingegnosamente mal costruita opera grossolana e delicata a bozzo d'essere che potrebbe diventare intelligente e superbo ci sono così poche specie su questo mondo dall'ostrica fino all'uomo perché non una di più una volta concluso il periodo che separa le apparizioni successive di ogni specie diversa perché non uno di più perché non anche altri alberi dai fiori immensi scintillanti e che profumano intere ragioni perché non altri elementi oltre al fuoco all'aria alla terra e all'acqua sono quattro solamente quattro questi padri nutritori degli esseri che pena perché non sono quaranta quattrocento quattromila come tutto è povero meschino miserabile ha veramente concesso aridamente inventato goffamente costruito elefante l'ippopotamo che grazia il cammello quale eleganza ma direte voi la farfalla un fiore che vola io ne immagino uno che sia grande come cento universi con delle ali di cui non posso nemmeno esprimere la forma la bellezza il colore e il movimento ma lo vedo va di stella in stella rinfrescandole e profumandole col soffio armonioso e leggero della sua corsa e i popoli di lassù lo guardano passare estasiati e rapiti che ho dunque è lui l'orla che mi possiede che mi fa pensare queste follie lui è in me diventa la mia anima lo ucciderò 19 agosto lo ucciderò l'ho visto mi sono seduto ieri al mio tavolo e facevo finta di scrivere con molta attenzione sapevo bene che sarebbe venuto a girare attorno a me vicinissimo così vicino da poterlo forse toccare prendere e allora allora avrei avuto la forza dei disperati avrei avuto le mie mani le mie ginocchia il mio petto la mia fronte i miei denti per strangolarlo schiacciarlo morderlo dilanearlo e stavo in agguato con tutti i miei organi sovraccitati avevo acceso le mie due lampade le otto candele del mio camino come se avessi potuto in quel chiarore scoprirlo di fronte a me il mio letto un vecchio letto di quercia a colonne a destra il camino a sinistra la mia porta chiusa con cura dopo averla lasciata per molto tempo aperta per attirarlo dietro di me un armadio molto alto con uno specchio che mi serviva ogni giorno per radermi per vestirmi e dove ero abituato a guardarmi dalla testa ai piedi ogni volta che vi passavo davanti dunque facevo finta di scrivere per ingannarlo poiché anche lui mi spiava e subito mi accorsi fui certo che lui leggeva il di sopra della mia spalla che lui era là che sfiorava il mio orecchio mi alzai con le mani tese voltandomi così in fretta che stavo per cadere ebbene ci si vedeva come in pieno giorno ma non mi vidi nel mio specchio quest'ultimo era vuoto chiaro profondo pieno di luce la mia immagine non vi stava sopra eppure mi trovavo lì di fronte vedevo il grande vetro limpido dall'alto in basso e guardavo ciò con gli occhi smarriti e non osavo più avanzare non osavo più fare un movimento comprendendo bene tuttavia che lui era lì ma che mi sarebbe nuovamente sfuggito lui il cui corpo invisibile aveva divorato il mio riflesso quanto ebbe paura poi ecco di provviso cominciai a scorgermi entro una nebulosità in fondo allo specchio in una nebulosità come attraverso uno strato d'acqua e mi pareva che quest'acqua scivolasse da sinistra a destra lentamente rendendo più precisa la mia immagine di secondo in secondo era come la fine di un'eclisse ciò che mi nascondeva non sembrava possedere contorni nettamente definiti ma una sorta di trasparenza opaca che si schiariva a poco a poco potevo infine distinguermi completamente così come ogni giorno quando mi guardo l'avevo visto me ne è rimasto uno spavento che mi fa ancora rividire 20 agosto ucciderlo come dal momento che non posso toccarlo il veleno ma mi vedrebbe mischiarlo all'acqua e i nostri veleni d'altronde avrebbero un effetto sul suo corpo invisibile ma no senza alcun dubbio allora allora 21 agosto ho fatto venire un fabbro da rouen e gli ho ordinato per la mia camera delle persiane di ferro come ne hanno a parigi certi alberghi particolari al pian terreno per paura dei ladri mi farà inoltre una porta simile mi sono fatto prendere per un codardo ma ben infischio 10 settembre uen hotel continental è fatta è fatta ma lui è morto ho l'animo sconvolto da quello che ho visto ieri dunque dopo che il fabbro aveva sistemato la persiana e la porta di ferro ho lasciato tutto aperto fino a mezzanotte benché cominciasse a far freddo di colpo ho sentito che lui era lì e una gioia una gioia folle mi ha preso mi sono alzato lentamente e ho passeggiato a destra e a manca per lungo tempo perché non indovinasse niente poi mi sono levato i miei stivaletti e messo le ciabatte con negligenza poi ho chiuso la persiana di ferro e tornando a passi tranquilli verso la porta ho chiuso anche la porta doppia mandata girandomi allora verso la finestra la fissai con un catenaccio di cui misi la chiave in tasca improvvisamente compresi che si agitava attorno a me che aveva paura a sua volta che mi ordinava di aprirgli fui sul punto di cedere non cedetti ma addossandomi alla porta la so chiusi giusto quanto bastava per passare io all'indietro e poiché sono molto alto la mia testa toccava l'architrave ero sicuro che non era riuscito a scappare e l'ho rinchiusi da solo da solo quale gioia era nelle mie mani allora scesi giù correndo presi nel salone sotto la mia camera le mie due lampade e rovesciai tutto l'olio sul tappeto sui mobili dappertutto poi vi misi fuoco e mi salvai dopo aver chiuso bene a doppia mandata il portone d'ingresso e andai a nascondermi in fondo al giardino in un boschetto di lauri quanto tempo ci volle quanto tempo tutto era nero muto immobile non un soffio d'aria non una stella solo montagne di nuvole che non erano visibili ma che pesavano sulla mia anima così opprimenti così opprimenti guardavo la mia casa e aspettavo quanto tempo ci volle credevo già che il fuoco si fosse spento da solo o che lui l'avesse spento lui quando una delle finestre in basso scoppiò sotto la spinta dell'incendio e una fiamma una grande fiamma rossa e gialla lunga molle caretzevole salì lungo il muro bianco e lo baciò fino al tetto un lucore corse si diffuse negli alberi nei rami nelle foglie e inoltre un brivido un brivido di paura gli uccelli mi svegliarono un cane si mise a ululare mi sembrò che il giorno si levasse due alte finestre scoppiarono presto e vedi che tutta la parte bassa della mia dimora non era più che uno spaventoso bracere un grido un grido orribile acutissimo straziante un grido di donna percorse le notte e due abbaini si aprirono avevo dimenticato i miei domestici vedi i loro volti impazziti e le loro braccia che si agitavano allora smarrito per l'orrore mi mise a correre verso il villaggio urlando aiuto aiuto al fuoco al fuoco incontrai delle persone che già stavano arrivando e ritornai con loro per vedere la casa ora non era più che un rogo orribile e magnifico un rogo mostruoso che rischiarava tutta la terra un rogo in cui bruciavano degli uomini e dove anche lui bruciava lui lui il mio prigioniero essere nuovo il nuovo padrone l'orla presto il tetto tutto intero sprofondò tra i muri e un vulcano di fiamme zampillò fino al cielo da tutte le finestre aperte sulla fornace vedevo la tinozza di fuoco e pensavo che lui era là in questo forno morto morto forse il suo corpo il suo corpo che il giorno attraversava non era forse indistruttibile con i mezzi che uccidono i mostri e se non fosse morto forse solo il tempo appresa sull'essere invisibile e temibile perché questo corpo trasparente questo corpo inconoscibile questo corpo da spirito se dovesse temere anche lui i mali le ferite le infermità la distruzione prematura la distruzione prematura tutta la paura dell'uomo viene da lei dopo l'uomo l'orla dopo quello che può morire ogni giorno a tutte le ore in qualsiasi minuto per qualunque accidente è giunto colui che non deve morire che nel suo giorno alla sua ora al suo minuto perché ha raggiunto il limite della sua esistenza no no senza alcun dubbio senza alcun dubbio lui non è morto e allora allora bisogna dunque che io mi uccida il dottor marrand il più illustre ed eminente alienista aveva pregato tre colleghi e quattro professori di scienze naturali di venire per un'ora nella clinica che dirigeva allo scopo di mostrare loro uno dei ricovelati appena gli amici furono riuniti e gli disse loro sottometterò al vostro parere il caso più strano e inquietante su cui mi sia mai capitato di lavorare non ho niente da dire sul paziente perché sarà lui stesso a parlare suonò il campanello un inserviente fece entrare un uomo era magrissimo d'aspetto quasi cadaverico consumato dal pensiero insano che divorava la carne del suo corpo più della febbre o della tisi dopo aver salutato ed essersi seduto disse signori conosco il motivo per cui siete riuniti qui e sono pronto a raccontarvi la mia storia secondo l'istanza del mio amico dottor marrand per molto tempo sono stato creduto demente da parte sua adesso ha qualche dubbio tra poco vi renderete tutti conto che io ragiono normalmente con la vostra stessa lucidità disgraziatamente per me per voi e per l'umanità intera ma preferisco cominciare con l'esposizione di alcuni fatti fatti assolutamente comuni eccoli ho 42 anni non sono sposato e i miei beni di fortuna bastano farmi vivere agiatamente abitavo in una villa sulle rive della senna a viessar vicino guan mi piacevano la caccia e la pesca dunque io avevo dietro di me sopra le grandi rupi che dominavano la mia casa una delle più belle foreste di francia quella di omar e davanti a me un fiume che è tra i più belli del mondo la mia casa è vasta dipinta di bianco all'esterno piacevole tradizionale in mezzo a un grande giardino con magnifiche piante che salgono sino alla foresta oltre quelle rocce di cui vi ho detto tra i miei domestici ci sono o meglio c'erano un cocchiere un giardiniere un cameriere personale una cuoca e una lavandaia che fungeva anche da tutto fare tutte queste persone stavano con me alcune da dieci anni altre da sedici mi conoscevano bene conoscevano la casa il paese l'andamento della mia vita erano brave e tranquille questo è molto importante per quanto dirò in seguito aggiungo anche che la senna che costeggia il giardino è navigabile fino a guan come probabilmente sapete ogni giorno vedevo passare grandi imbarcazioni sia a vela sia a vapore provenienti da ogni parte del mondo dunque l'autunno dell'anno scorso fui colpito da una malattia bizzarra quanto inesplicabile all'inizio era una semplice inquietudine dei nervi che mi faceva passare intere notti in bianco una sorte di sovrecitazione che mi faceva trassalire al minimo rumore diventai irascibile avevo degli scoppi di collera improvvisi inesplicabili chiamai un medico che mi ordinò una cura di bromuro e potassio e delle docce fredde facevo dunque docce sera e mattina e prendevo il bromuro effettivamente ripresi a dormire ma d'un sonno più spaventevole dell'insonnia appena coricato chiudevo gli occhi e mi annientavo sì cadevo nel nulla un nulla assoluto una specie di morte della personalità da cui ero tratto all'improvviso dalla spaventosa sensazione che qualcuno mi stava succhiando il petto e succhiava dalla mia bocca ogni energia vitale che incubi non c'è niente di più terrificante immaginate che qualcuno tenti di assassinarvi mentre state dormendo e di risvegliarvi con la sensazione d'avere un coltello piantato nella gola mentre rantolate insanguinati e senza poter respirare si si sente vicini alla morte senza rendersi conto di quel che è accaduto ecco dimagrivo in maniera preoccupante continuò ma accorsi che pure il mio cocchiere che era molto robusto aveva cominciato a dimagrire come me allora gli chiesi che avete già state male mi rispose credo di essermi preso la stessa malattia del signore le notti divorano i miei giorni pensai a questo punto che doveva esserci nella casa una forma di infezione febbrile dovuta alla vicinanza del fiume e stavo per andarmene via per due o tre mesi nonostante fossimo in piena stagione di caccia quando una piccola circostanza bizzarra osservata per caso provocò tutta una serie di fatti inattesi inverosimili fantastici spaventevoli che mi indussero a rimanere una sera ebbi sete bevi un mezzo bicchiere d'acqua notando che la caraffa poggiata sul comodino vicino al letto era piena sino al livello del tappo di cristallo durante la notte ebbi uno di quegli incubi spaventosi di cui vi ho parlato accesi la candela in preda all'angoscia e feci per bere di nuovo ma mi accorsi con stupore che la caraffa era vuota non potevo credere ai miei occhi o qualcuno era penetrato in camera mia oppure dovevo essere sonnambulo ma se la successiva voglio ripetere l'esperimento chiusi a chiave la porta della camera per essere sicuro che nessuno sarebbe potuto entrare dopo di me presi sonno e poi mi ridestai come ogni notte qualcuno aveva bevuto tutta l'acqua che avevo veduto nella caraffa appena due ore prima chi aveva bevuto quell'acqua senza dubbio ero stato io eppure ero sicuro assolutamente sicuro di non essermi alzato dal letto durante il mio sonno profondo e pieno di sofferenza ricorsi allora delle piccole astuzie per convincermi che non ero io a compiere quegli atti una sera misi vicino alla caraffa una bottiglia di vecchio vino di bordeaux una tazza di latte che detesto e alcuni dolcetti al cioccolato che invece mi piacciono molto vino e dolcetti erano rimasti intatti il latte e l'acqua non c'erano più allora ogni giorno cambiai bevande e cibi le cose solide non furono toccate e quanto alle bevande sparirono solo il latte fresco e soprattutto l'acqua mi restava nell'animo un dubbio lancinante non ero io che mi alzavo senza averne coscienza e che bevevo anche le cose che detestavo oppure i miei sensi intorpiditi dal sonno sonnambolico potevano aver perduto l'abituale ripugnanza ed essersi mortificati e aver acquisito gusti differenti adoperai allora contro me stesso un nuovo espediente avvolsi gli oggetti che dovevano essere comunque maneggiati con strisce di garza bianca e poi con un tovagliolo di batista poi al momento di coricarmi mi impiastricciai le mani la bocca i baffi con polvere di piombo allora si svegliò ogni cosa era immacolata benché qualcuno dovesse averle toccate perché il tovagliolo non era sistemato nello stesso modo in cui l'avevo lasciato io inoltre qualcuno aveva bevuto l'acqua e il latte eppure né dalla porta chiusa con una chiave di sicurezza né dalla finestra inchiavardata per prudenza qualcuno poteva essere penetrato nella stanza a quel punto non potevo farmi che questa preoccupante domanda chi c'era accanto a me tutte le notti sento signori che il mio racconto procede con fretta eccessiva state sorridendo vi siete già fatti un'opinione è pazzo avrei dovuto descrivere più a lungo l'emozione di un uomo che chiuse in camera sua in perfetta sanità di mente osserva dietro il vetro di una caraffa che una piccola quantità di acqua è sparita mentre dormiva avrei dovuto farvi capire meglio questa tortura che si ogni sera ogni mattina e parlarvi del sonno invincibile e dei risvegli ancor più spaventosi ma continuo all'improvviso il prodigio finì non spariva più nulla dalla mia camera era finito stavo meglio naturalmente ma era tornato il buon umore quando venne a sapere che uno dei miei vicini il signor lecitte si trovava esattamente nelle mie stesse precedenti condizioni pensai di nuovo a un morbo che sarà diffuso nel paese il mio cocchiere in gravi condizioni mi aveva lasciato da un mese intanto era passato l'inverno e cominciava la primavera dunque una mattina facevo una passeggiata nel rosetto del mio giardino quando vidi vidi distintamente proprio vicino a me rompersi il d'una delle rose più belle come se una mano invisibile l'avesse colta poi il fiore seguì nell'aria la curva che avrebbe descritto un braccio che intendesse portarselo sotto il naso rimase sospeso nell'aria trasparente solo immobile spaventoso a tre passi dai miei occhi preso da folle terrore mi buttai sulla rosa per afferrarla non trovai niente era sparita allora mi prese un'ira furiosa contro me stesso com'è possibile che un uomo che ragiona possa avere una simile allucinazione ma era proprio un'allucinazione cercai lo stelo lo trovai subito sulla pianta spezzato da poco tra le altre due rose rimaste sul ramo quelle che avevo notato io erano tre vi entrai in casa sconvolto ascoltatemi signori io sono calmo io non credevo al soprannaturale non ci credo nemmeno oggi ma a partire da quel momento fui certo certo come dell'alternanza tra il giorno e la notte che vicino a me c'era qualcuno un essere invisibile che mi aveva plagiato poi mi aveva abbandonato ed era tornato di nuovo ne ebbi la prova poco dopo tra i miei domestici scoppiavano quasi ogni giorno delle liti furibonde per mille cose futili in apparenza ma che ormai per me erano molto significative un bicchiere un bel bicchiere di cristallo di murano si frantumò da solo sulla credenza della sala da pranzo in pieno giorno il cameriere incolpò la cuoca questo era tutto fare che accusò a sua volta non ricordo chi porte chiuse alla sera erano trovate aperte al mattino nella dispensa e spariva ogni notte un po di latte che stava succedendo che fenomeni erano quelli una curiosità snervante con mista collera e paura mi teneva in estrema agitazione notte e giorno poi ancora una volta la casa tornò nella normalità credevo ancora di aver sognato quando accadde il fatto seguente erano le nove di sera del 20 luglio faceva molto caldo avevo lasciato la finestra spalancata la lampada era accesa sulla tavola per illuminare un volume diversi di de musse aperto a la notte di maggio poco dopo mi stegi su una grande poltrona in cui mi assopì avevo dormito circa 40 minuti poi ho riaperto gli occhi senza fare il minimo movimento risvegliato da una certa emozione strana e confusa da principio non ho veduto niente poi mi è sembrato che una pagina del libro si fosse girata da sola dalla finestra non entravano soffi d'aria rimaci sorpreso ed aspettai dopo tre o quattro minuti ho visto ho visto sì ho visto con i miei occhi signori un'altra pagina a sollevarsi e ricadere sulla precedente come sfogliata da un dito la mia poltrona pareva vuota ma io compresi che lui era là d'un balzo attraversai la camera per azzerrarlo se fosse stato possibile ma la poltrona prima che potessi raggiungerla si rovesciò come se ci fosse stato qualcuno che scappava davanti a me cadde anche la lampada e si spense mentre il vetro si ruppe la finestra fu spinta all'improvviso come se un malfattore l'avesse afferrata scappando e andò a battere contro i due cilindri che ne limitavano l'apertura mi precipitai a suonare il campanello quando comparve il mio cameriere gli dissi sono io che ho buttato tutto all'aria e ho rotto la lampada portami un altro lume non dormi più quella notte e tuttavia poteva trattarsi ancora di un'illusione quando ci si desta all'improvviso i nostri sensi sono appannati forse ero stato io stesso a rovesciare la poltrona quando mi ero precipitato lì come un pazzo no non ero stato io non potevo aver dubbi nemmeno per un attimo e nonostante ciò mi sforzavo di crederlo un momento quell'essere come lo chiamerò l'invisibile no non basta io lo chiamo orla perché non lo so dunque orla non mi lasciava più avevo giorno e notte la sensazione la certezza della presenza di quest'estraneo inafferrabile e anche la certezza che stava prendendosi la mia vita ora per ora minuto per minuto l'incossibilità di vederlo mi esasperava in casa accendevo tutte le luci come se in tanto chiarore ne fosse stato possibile scoprirlo ma finalmente lo vidi lo so voi non mi credete ma io l'ho visto me ne stavo seduto davanti a un libro qualunque ma non leggevo era un agguato tutti gli organi tesi in attesa di lui che sentivo vicino sicuramente era vicino ma dove che stava facendo come avrei potuto sorprenderlo di fronte il mio letto un vecchio letto di querza colonnine a destra il caminetto a sinistra la porta che avevo ben chiuso dietro di me un grande armadio con leante a specchio che ogni giorno utilizzavo per radermi per vestirmi per osservarmi dalla testa ai piedi ogni volta che vi passavo davanti dunque stavo facendo finta di leggere per ingannarlo dato che anche lui mi stava spiando lo sentì all'improvviso fu certo che stavo leggendo da sopra le mie spalle era vicinissimo quasi mi sfiorava l'orecchio balzai in piedi girandomi così in fretta che rischiai di cadere nella stanza ci si vedeva come se fosse stato di giorno eppure non mi vidi riflesso nello specchio era vuoto chiaro invaso dalla luce non rifletteva però la mia immagine e io ero posto proprio di fronte allo specchio vedevo il cristallo limpido e vuoto dall'alto in basso guardavo con occhi smarriti e non osavo fare un passo certo che si trovava tra me e lo specchio e che mi sarebbe ancora sfuggito ma certo anche che il suo corpo impercettibile aveva coperto il mio che doveva esservi riflesso ebbi una gran paura poi ecco che all'improvviso cominciai a vedermi in fondo allo specchio come in una nebbia come attraverso un vero d'acqua e mi sembrava che quest'acqua scivolasse da sinistra a destra lentamente rendendo sempre più precisa la mia immagine di attimo in attimo era come la fine di un'eclisse e ciò che mi aveva nascosto non sembrava avere contorni chiaramente delineati ma una specie di trasparenza opaca che si andava schiarendo a poco a poco poi mi rividi completamente come ogni giorno quando mi specchio l'avevo veduto ne sono ancora terrorizzato ne rabbrividisco ancora il giorno successivo ero già qui ho chiesto ad essere trattenuto ho finito signori il dottor marrand dopo aver avuto dubbi per parecchio tempo si è deciso a fare da solo un viaggio al mio paese in questo momento tre dei miei vicini sono stati colpiti come lo ero io non è forse vero il medico rispose con solennità è vero voi avete consigliato loro di lasciare ogni notte un po d'acqua e un po di latte in camera per vedere se questi liquidi sarebbero spariti è stato fatto così i liquidi sono scomparsi come in camera mia il medico confermò gravemente sono spariti e allora signori un essere un essere nuovo che certamente in tempo si moltiplicherà come ci siamo moltiplicati noi uomini è appena apparso sulla terra sorridete perché perché quest'essere per ora è invisibile ma il nostro occhio signori è un organo talmente rozzo che può distinguere appena lo stretto necessario alla nostra esistenza gli sfugge quel che è troppo piccolo come quel che è troppo grande o troppo lontano non conosce i miliardi di microbi che vivono in una goccia d'acqua ignora gli abitanti le piante i giacimenti delle stelle vicine non percepisce neanche il trasparente mettetegli davanti un cristallo perfetto non lo riconoscerà e ci andrà a cozzare come un uccello che si rompe il capo contro i vetri d'una casa e dunque non vede i corpi solidi e trasparenti che pure esistono non vede l'aria che lo nutre non vede il vento che è la forza più importante della natura che abbatte uomini case alberi che solleva il mare in montagne d'acqua capace di far crollare rocce di granito non c'è da stupirsi che non si veda un corpo nuovo a cui manca sicuramente soltanto il potere di fermare i raggi di luce vedete forse l'elettricità eppure esiste quest'essere che ho chiamato orla esiste anche lui chi è è colui che la terra aspetta dopo l'uomo colui che ci toglierà ogni potere che ci farà schiavi che ci dominerà e forse si nutrirà di noi allo stesso modo con cui noi ci nutriamo di manzi e di cinghiali sono secoli che abbiamo il presentimento il timore e l'annuncio del suo avvento la paura dell'invisibile ha sempre ossessionato i nostri antenati è venuto tutte le leggende delle fate degli ignomi delle presenze inafferrabili e malefiche parlavano di lui facendolo presentire agli uomini inquieti e già terrorizzati e tutto quel che fate voi stessi da qualche anno signori quel che chiamate ipnotismo suggestione magnetismo è solo l'annuncio la profezia della sua venuta io vi dico che è venuto ti gira attorno inquieto come i primi uomini sulla terra ancora inconsapevole della propria forza e della propria potenza che presto crescerà sin troppo presto e per finire ecco signori un brano d'un giornale che ho trovato per cagio e che viene da rio de janeiro dice una strana epidemia di demenza infierisce da qualche tempo nella provincia di san paolo gli abitanti di vari villaggi sono scampati abbandonando le loro terre e la loro casa affermavano ad essere perseguitati e divorati da invisibili vampiri che si nutrivono della loro forza vitale durante il sonno e che bevevano solamente acqua e qualche volta latte devo aggiungere che qualche giorno prima dell'attacco del morbo che mi stava facendo morire mi ricordo perfettamente di aver veduto passare un gran tre alberi brasiliano con la bandiera spiegata vi ho detto che la mia casa tutta bianca è in riva al fiume di certo si era nascosto su quel bastimento non ho altro da dire signori il dottor marrande si alzò in piedi e disse a bassa voce nemmeno io non so se quest'uomo è pazzo o se non lo siamo entrambi o se è davvero arrivato colui che prenderà il nostro posto quasi otto mesi fa uno dei miei amici lui r aveva riunito una sera alcuni compagni di collegio stavamo bevendo un punch mentre si fumava e si chiacchierava di letteratura e di pittura raccontandoci ogni tanto qualche storiello piccante come d'uso nelle riunioni giovanotti a un tratto si spalanca la porta ed entra come un bolide uno dei miei migliori amici d'infanzia esclamò subito indovinate da dove vengo uno gli risponde scommetto che sei stato da mabil no sei troppo allegro fa un altro hai ottenuto un prestito oppure è morto uno zio o hai impegnato l'orologio al monte hai preso una bella ciucca propone un terzo e siccome hai sentito l'odore del punch qui da lui sei salito per ricominciare no non ci siete vengo da pì in normandia dove sono andato a passare otto giorni e da dove riporto un celebre criminale mio amico che mi permetto di presentarvi dette queste parole trasse di tasca una mano scorticata era raccapricciante quella mano nera scheletrica lunghissima come raggrinzita i muscoli d'una forza impressionante erano tenuti assieme all'interno e all'esterno da una correggia di pelle pergaminata le unghie gialle strette erano rimaste in cima alle dita era la mano di un delinquente lo si capiva immediatamente a un miglio di distanza il mio amico continuò figuratevi che l'altro giorno vendevano la roba ad un vecchio stregone conosciuto in tutta la regione ogni sabato andava al sabba su un manico di scopa praticava la magia bianca e nera faceva venire alle vacche il latte azzurro e portava la coda come quella del compagno di sant'antonio certo è che quel vecchio farabutto teneva moltissimo a questa mano diceva che era quella di un famoso criminale giustiziato nel 1736 per aver gettato a capofitto in un pozzo la propria moglie legittima cosa che mi pare giusta e poi per aver impiccato al campanile della chiesa il curato che l'aveva sposato dopo questa doppia impresa si era messo a girare il mondo e nella sua carriera breve ma intensa aveva rapinato una dozzina di viaggiatori bruciato venti frati in un convento e trasformato un monastero in una specie di harem ma che cosa vuoi farne di quell'orrore esclamammo per bacco la metterò come maniglia del campanello per spaventare i creditori harry smith un grosso inglese flemmatico gli disse amico mio credo che quella mano sia semplicemente un pezzo di carne indiana conservata con un nuovo procedimento ti consiglio di farci un buon brodo uno studente di medicina che era quasi ubriaco intervenne allora con inattesa lucidità amici non scherzate e tu pier se vuoi un consiglio fa sotterrare cristianamente questo lesto umano nel timore che il legittimo proprietario non venga a richiedertelo e poi questa mano forse ha preso delle pessime abitudini conosci no il proverbio chi ha ucciso ucciderà ancora e chi ha bevuto berrà ribatte il nostro anfitrione versando allo studente un bicchiere di ponce che l'altro buttò giù di un fiato e cadde ubriaco fradicio sotto il tavolo questa battuta fu accolta da risate fragorose e pier alzando il bicchiere in direzione della mano disse bevo alla prossima visita del tuo padrone poi per l'ammo d'altro e ciascuno fece ritorno alla propria abitazione il giorno dopo poiché mi trovavo a passare davanti alla casa di pier entrai da lui erano quasi le due lo trovai che stava bevendo e fumando beh come va gli dissi mi rispose benissimo e la mano devi averla vista attaccata al campanello dove l'ho messa ieri sera rincasando ma a proposito figurati che qualche imbecille deve essere venuto a suonare verso mezzanotte senza dubbio per farmi uno scherzo ho domandato chi era ma siccome non mi ha risposto nessuno mi sono coricato di nuovo e mi sono riaddormentato suonarono proprio in quell'attimo era il padrone di casa un tipo grossolano insolente entrò senza salutare signore disse al mio amico la prego di levar di mezzo immediatamente la carogna che lei ha appeso al cordone del suo campanello altrimenti sarò costretto a darle lo sfratto con una faccia serissima pier ribatte signore dai insulta una mano che non merita ad essere trattata a questo modo perché apparteneva a una persona assolutamente per bene il padrone di casa girò sui tacchi e uscì così come era entrato pier gli andò dietro staccò la mano e l'attaccò al campanello appeso nella sua alcova questa mano sta meglio qui sarà per me come quella frase che si ripetono i trappisti ricordati che sei destinato a morire insomma mi ispirerà pensieri importanti ogni sera prima ad addormentarmi dopo un'ora lo lasciai e me ne tornai a casa passai una cattiva notte ero agitato nervoso me risvegliai di soprassalto parecchie volte mi parve che un uomo fosse penetrato in casa e mi alzai per andare a guardare nell'armadio e sotto il letto finalmente verso le sei avevo appena cominciato ad assopirmi quando dei colpi violenti alla porta mi fecero saltar giù dal letto era il domestico di pier vestito sommariamente pallidissimo e tremante tra i singozzi gridò signore hanno assassinato il mio povero padrone mi vestì in fretta e corsi da pier l'appartamento era pieno di persone che discutevano e sagitavano in un movimento incessante ciascuno di loro parlava raccontava commentava l'accaduto in tutte le maniere raggiunsi la camera a gran fatica la porta era sorvegliata mi feci riconoscere e mi lasciarono entrare quattro agenti di polizia stavano in piedi al centro della stanza con un tacquino in mano esaminavano tutto scambiando ogni tanto qualche parola a bassa voce e poi prendevano appunti due medici parlottavano accanto al letto ovvero steso pier privo di conoscenza non era morto ma aveva un aspetto terrificante gli occhi aperti smisuratamente con le pupille dilatate sembravano paralizzati fissavano con una indicibile paura una cosa orribile sconosciuta le dita erano contratte il corpo coperto sin sotto al mento da un lenzuolo che sollevai aveva il collo i segni di cinque dita che erano penetrate a fondo nella sua carne qualche goccia di sangue macchiava la camicia una cosa mi colpì in quel momento guardai per caso il campanello dell'alcova la mano dello scorticato non c'era più avevano tolta certamente i medici per non impressionare coloro che entravano nella camera del ferito di fatti quella mano era davvero orribile non domandai nemmeno quel che avevano fatto ora ritaglio da un quotidiano del giorno seguente il resoconto del delitto con tutti i particolari che la polizia aveva potuto raccogliere ecco quel che c'era scritto un orrendo tentato omicidio è stato commesso ieri contro il signor pier b studente in legge e appartenente a una delle più importanti famiglie della normandia il povero giovane rincasato alle 10 di sera aveva congedato il suo domestico un certo bouvain dicendogli che era stanco e che si sarebbe colicato verso mezzanotte il domestico venne risvegliato dal suono del campanello che era nella camera del padrone un suono così insistente e disperato che impaurì il bouvain il campanello tacque poi per circa un minuto endi riprese con tale forza che il domestico terrorizzato si precipitò da svegliare il portiere dello stabile questi corse a chiamare la polizia dopo circa un quarto d'ora gli agenti sfondavano la porta della camera chiusa dall'interno un orribile spettacolo si presentò ai loro occhi mobili erano sotto sopra e tutto poteva far pensare che una lotta mortale aveva apposto vittima e aggressore in mezzo alla stanza faccia a terra e con le membre irrigidite il volto livido agli occhi sbarrati spaventosamente giaceva in moto il giovane pierby al collo aveva le impronte profonde di cinque dita il rapporto del dottor burdo chiamato d'urgenza dice che l'aggressore doveva essere straordinariamente forte e che la sua mano doveva essere molto magra e muscolosa in quanto le dita hanno lasciato sul collo della vittima come cinque buchi di pallottole riuniti tra loro attraverso la carne nessuna traccia dell'autore del delitto la giustizia indaga l'indomani sullo stesso giornale si leggeva il signor pierby la vittima dell'aggressione di cui abbiamo dato notizia ieri ha ripreso conoscenza dopo due ore di assidue cure prodigategli dal burdo è fuori pericolo ma si nutrono serie preoccupazioni per il suo stato mentale nessuna traccia del colpevole infatti il mio povero amico era impazzito per sette mesi andai a visitarlo quasi ogni giorno nella casa di cura in cui l'avevamo ricoverato ma non riacquistò un barlume di ragione nel delirio pronunciava parole senza senso e come tutti i dementi era ossessionato da un'idea fissa credendosi continuamente assalito da un fantasma un giorno vennero a cercarmi d'urgenza dicendomi che era peggiorato lo trovai in agonia per un paio d'ore rimase molto calmo poi improvvisamente salzò dal letto nonostante i nostri sforzi per trattenerlo in preda al terrore gridava prendila prendila mi strozza aiuto aiuto fece per due volte il giro della camera urlando poi cadde morto la faccia a terra poiché era orfano fu incaricato io di accompagnare la salma al piccolo cimitero di p in normandia dove erano sepolti anche i suoi genitori veniva proprio da questo paesino la sera in cui ci aveva trovato a bere il punch a casa di lui r e ci aveva mostrato la mano scorticata il suo corpo fu chiuso in una vara di piombo quattro giorni dopo io ero andato a fare una triste passeggiata insieme al vecchio curato del posto che era stato il primo insegnante del mio amico nel piccolo cimitero dove gli stavano scavando la fossa il tempo era magnifico il cielo in un azzurro intenso spandeva a profusione la luce gli uccelli cantavano nei rovi delle scarpate là dove tante volte quando eravamo entrambi i bambini eravamo venuti a cercare le more mi pareva di vederlo ancora intrufolarsi lungo la siepe e passare attraverso un varco che conoscevo bene laggiù proprio in fondo al terreno in cui vengono sotterrati i poveri poi tornavamo nelle nostre case con le guance e le labbra annerite dal succo dei frutti che avevamo mangiato guardavo le macchie erano piene di more ne presi una macchinalmente e me la misi in bocca il curato aveva aperto il breviario e borbottava con un fil di voce i suoi oremus udivo in fondo al viale il rumore della vanga dei becchini che stavano scavando la fossa a un tratto ci chiamarono il curato chiuse il suo libro e andammo a vedere cosa volevano avevano trovato una bara proprio in quel tratto di terreno con una picconata riuscirono a sollevare il coperchio e vedemmo uno scheletro smisuratamente lungo coricato sul dorso pareva che ci guardasse ancora coi suoi occhi infossati e ci sfidasse senza un motivo apparente trovai una forte sensazione di malessere ebbe quasi paura guardate esclamò uno dei becchini guardate questo birbaccione ha una mano mozza eccola qui la mano e raccolse a fianco del corpo una grande mano scorticata che ci mostrò commentò allora l'altro attento si direbbe che ti guardi adesso ti salterà alla gola perché rivuole indietro la mano che gli hai preso intervenne il curato andiamo amici miei lasciate in pace ai morti e richiudete quella cassa scaverete da un'altra parte la fossa per il povero signor pierre il giorno dopo tutto era finito e io me ne tornai a parigi dopo aver lasciato 50 franchi al vecchio curato perché dicesse qualche messa per l'anima di colui al quale avevamo turbato l'eterno riposo sono pazzo o soltanto geloso non lo so ma ho sofferto orribilmente ho compiuto un atto di pazzia di pazzia furiosa è vero ma la gelosia lancinante ma l'amore esaltato tradito condannato ma il dolore abominevole che ho sopportato tutto ciò non basta a far commettere delitti e pazzie senza essere veramente criminali nel cuore e nel cervello ho sofferto sofferto offerto in modo continuo acuto spaventevole ho amato quella donna con uno slancio frenetico e tuttavia è proprio vero ho veramente amata no 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 mi ha posseduto anima e corpo invaso incatenato sono stato sono la sua cosa il suo giocattolo appartengo al suo sorriso alla sua bocca al suo sguardo alle linee del suo corpo alla forma del suo viso mi manca il fiato sotto il dominio della sua apparente esterna ma lei la donna che ha questo corpo la odio la disprezzo l'esecro l'ho sempre odiata disprezzata esecrata perché è perfida bestiale immonda impura e la è la donna della e la è la donna della perdizione l'animale sensuale è falso in cui non esiste l'anima in cui il pensiero non circola mai come l'aria libera e vifificatrice quella è la grembo una meravigliosa carne dolce e rotonda dove l'infamia si annida i primi tempi del nostro legame furono strani e deliziosi tra le braccia di lei sempre aperte mi esaurivo in una furia di insaziabile desiderio i suoi occhi come se mi avessero fatto venire la sete mi facevano aprire la bocca erano grigio a mezzogiorno color verde al cader del giorno turchini alle var del sole non sono pazzo giuro che avevano questi tre colori nelle ore d'amora erano turchini e come pesti con pupille enormi e nervose le labbra scosse da un fremito lasciavano intravedere talora la pompa rosea e umida della lingua che palpitava come quella di un rettile e le palpebre pesanti si rialzavano lentamente scoprendo uno sguardo ardente che mi annichiliva e mi rendeva folle stringendola tra le braccia la guardavo negli occhi e fremevo scosso dal bisogno di uccidere quella bestia come dalla necessità di possederla senza fine quando camminava nella mia camera il rumore ad ognuno dei suoi passi faceva battere il mio cuore e quando cominciava a svestirsi lasciando cadere gli abiti e usciva infame e radiosa dalle vesti che calpestava intorno a sé sentivo lungo tutte le membra nel mio petto anelante uno sfinimento infinito e vile un giorno mi accorsi che era stanca di me e lo vidi negli occhi a risveglio curvo su di lei attendevo ogni mattina il suo primo sguardo l'attendevo pieno di rabbia di odio di disprezzo per quella femmina addormentata di cui ero schiavo ma quando il turchino pallido della sua pupilla quel turchino liquido come acqua si scopriva ancora languido ancora stanco ancora ammalato delle recenti carezze era come una fiamma rapida che bruciasse ed esasperasse i miei ardori quel giorno quando aprì le palpebre scorsi uno sguardo indifferente spento che non desiderava più nulla ah lo vidi lo seppi lo sentì lo compresi subito era finita finita per sempre e nebbi la prova ogni ora a ogni secondo quando la chiamavo con le braccia e le labbra e la si volgeva annoiata mormorando lasciatemi via oppure siete odioso oppure non posso star tranquilla allora fu geloso ma geloso come un cane e scaltro diffidente dissimulatore sapevo che il avrebbe ricominciato presto che un altro uomo sarebbe giunto ad accenderle i sensi fui geloso con frenesia ma non sono pazzo no certo non sono pazzo attesi spiai non mi ingannava ma rimaneva fredda addormentata diceva talora gli uomini mi disgustano ed era vero fui allora geloso di lei stessa geloso della sua indifferenza geloso della solitudine delle sue notti geloso dei suoi gesti dei suoi pensieri che mi apparivano sempre ignobili geloso di tutto ciò che indovinavo e quando aveva talora al suo alzarsi quello sguardo stanco che seguiva già le nostre notti ardenti come se qualche concupiscenza le avesse incalzato l'anima e rimescolato i desideri mi venivano soffocamenti di collera cremiti di indignazione voglie di strangolarla di abbatterla sotto i ginocchi e di farle confessare stringendole la gola tutti i segreti vergognosi del suo cuore sono pazzo no una sera la sentì felice una passione nuova vibrava in lei ero sicuro indubitabilmente sicuro palpitava come dopo le mie strette gli occhi le fiammeggiavano le mani erano calde tutta la persona vibrante sprigionava quel sapore di amore da cui la mia pazzia amorosa era sorta fin si di nulla comprendere ma la mia attenzione la volgeva come una rete pura non scopersi niente attese una settimana un mese una stagione e la si schiudeva in un incomprensibile ardore si placava nella felicità di un ineffabile carezza ed un tratto indovinai non sono pazzo non sono pazzo lo giuro non sono pazzo come dire come farmi capire come esprimere questa abominevole e incomprensibile cosa ecco in quale modo me ne accorsi una sera rincasando da una lunga passeggiata a cavallo mi lasciò cadere con le guance rosse il petto ansante le gambe affaticate gli occhi appannati su una sedia bassa di fronte a me l'avevo già veduta così amava non potevo ingannarmi allora perdendo la testa per non contemplarla più oltre volsi il capo verso la finestra e scorsi un domestico che conduceva per la briglia verso la stalla il suo grande cavallo che si impennava e la pure seguiva con gli occhi l'animale focoso e saltellante poi quando fu scomparso si addormentò ad un tratto fantasticai tutta la notte e mi sembrò di penetrare i misteri che non avevo mai sospettati chi approfondirà mai le perversioni della sensualità delle donne chi comprenderà i loro inverosimili capricci e l'appagamento strano delle più strane fantasie ogni mattina fin dall'aurora e la partiva di galoppo per pianure e boschi e ogni volta rincasava illanguidita come dopo frenesie d'amore avevo compreso ero geloso ora del cavallo muscoloso e veloce geloso del vento che le accarezzava il viso quando andava di corsa pazza geloso delle foglie che baciavano passando i suoi orecchi delle gocce di sole che cadevano sulla fronte attraverso i rami geloso della sella che la portava e che stringeva con le cosce era tutto ciò che la rendeva felice che risaltava la pagava la esauriva e me la rendeva in seguito insensibile e quasi svenuta risolsi di vendicarmi fui dolce e pieno di premura per lei e tendevo la mano quando saltava a terra dopo le sue corse sfrenate animale furioso sferrava calci verso di me e la lo accarezzava sul collo ricurvo lo baciava sulle froghe ferramenti senza asciugarsi poi le labbra e il profumo del suo corpo il sudore come dopo il tepore del letto si mescolava sotto le mie narici all'odore acre ed equino della bestia attesi il mio giorno e la mia ora passava ogni mattina per lo stesso sentiero in un boschetto di betulla che si perdeva nella foresta usci prima dell'alba con una corda in mano e le mie pistole alla cintola come se andassi a battermi in duello corsi verso il sentiero che preferiva tesi la corda tra due alberi poi mi nascosi fra le frasche avevo l'orecchio contro il suolo intesi il galoppo lontano poi nascosi laggiù sotto le foglie come in fondo a una volta giungeva in un galoppo sfrenato ah non mi ero ingannato era quello che avevo immaginato sembrava il culmine della gioia il sangue le guance folle nello sguardo e il movimento precipitoso della corsa le faceva vibrare i nervi di un godimento solitario e violento animale cadde nella trappola con le zampe anteriori e ruzzolò le ossa spezzate lei la ricevette nelle mie braccia sono tanto forte da sostenere un bue poi quando lei bide posta a terra mi avvicinai all'altro che ci guardava allora mentre tentava di mordermi mi avvicinai la canna della pistola all'orecchio e l'ho uccisi come un uomo ma cadde io stesso con il viso sferzato da due colpi di scudiscio e poiché ella si avventava di nuovo contro di me la colpì nel ventre con l'altra pallottola che restava ditemi sono pazzo la paura uno m'ho passato risalimmo sul ponte subito dopo la cena davanti a noi il mediterraneo non aveva un'increspatura su tutta la parte visibile marezzata di luna il grande piloscopo continuava la sua rotta gettando nel cielo seminato di stelle un gran serpente di fumo nero dietro di noi l'acqua bianchissima mossa dal veloce passaggio del bastimento battuta dall'elica era tutta una spuma sembrava s'avvolgesse su se stessa provocando innumerevoli scintilli simili al bollore di una liquida luce di luna in sei o sette ce ne stavamo lì in silenzio e pieni di ammirazione con lo sguardo rivolto verso l'africa ancora lontana e dove ci stavamo dirigendo il comandante che stava fumando un sigaro in mezzo a noi all'improvviso riprese una conversazione che era incominciata durante la cena già quel giorno ho avuto paura per sei ore la mia nave era rimasta con quello scoglio conficcato dentro battuta dal mare in continuazione verso sera per fortuna fumo raccolti da una carboniera inglese che ci aveva avvistati un uomo alto col viso abbronzato e l'aspetto serio una di quelle persone che devono aver attraversato grandi paesi sconosciuti tra continui pericoli e il cui occhio sereno sembrava conservare qualche cosa nella sua profondità degli strani paesaggi che ha veduto un uomo insomma ben temprato dal coraggio entrò allora per la prima volta nella nostra conversazione comandante lei dice di aver avuto paura non lo credo forse equivoca sulla parola o forse sulla sensazione che ha provato un uomo coraggioso non ha mai paura nell'incombere di un pericolo è emozionato agitato nervoso ma la paura è un'altra cosa il comandante replicò ridendo accidenti e invece le garantisco che ho avuto paura allora l'uomo abbronzato aggiunse parlando con estrema lentezza mi permetta di spiegarmi la paura anche gli uomini più coraggiosi possono provarla è un sentimento orrendo una sensazione atroce simile alla decomposizione dell'anima uno spasimo spaventoso del pensiero del cuore il cui semplice ricordo provoca brividi d'angoscia ma quando si è coraggiosi di natura questo non avviene né davanti a un attacco pericoloso né davanti a una morte inevitabile né davanti a tutte le forme note del pericolo a luogo in circostanze anormali sotto certe influenze misteriose di fronte a rischi indefiniti la vera paura è simile al ricordo dei terrori fantastici d'un tempo un uomo che crede ai fantasmi e che si immagina di scorgere uno spettro nella notte lui sì che proverà la paura in tutto il suo orrore io ho intuito che cos'era la paura in pieno giorno circa dieci anni fa l'ho provata l'inverno scorso durante una notte del mese di dicembre eppure m'ero trovato in frangenti e in avventura che parevano mortali ho combattuto spesso sono stato lasciato per morto dai banditi sono stato condannato all'impiccagione come insorto in america e gettato in mare aperto dal ponte d'una nave in cina ogni volta mi sono creduto spacciato e mi sono rassegnato subito senza commozione e anche senza rimpianti ma questa non è la paura io l'ho presentita in africa eppure essa è figlia del nord il sole la dissipa come una nebbia fate attenzione a questo signori per gli orientali la vita non conta niente si è subito rassegnati le notti sono chiare senza le cupie inquietudini che opprimono gli uomini dei paesi freddi in oriente si può conoscere il panico si ignora la paura ebbene ecco quel che mi è accaduto in terra d'africa attraverso le grandi dune al sud di orgla è uno dei più strani paesi della terra voi conoscete la sabbia distesa la sabbia delle interminabili spiagge oceaniche adesso figuratevi che l'oceano sia diventato sabbia in mezzo a un uragano immaginatevi una tempesta silenziosa di immobili onde di polvere gialla sono alte come montagne queste onde ineguali diverse sollevate in alto come cavalloni ma ancora più grandi e striate come un'immensa pezza di amoerro su questo mare furioso muto e apparentemente immobile il divorante sole del sud sparge la sua fiamma implacabile e diretta bisogna oltrepassare queste onde di cenere dorata ridiscendere e ancora salire salire senza sosta senza riposo e senza ombra i cavalli rantorano sprofondano fino al ginocchio e poi si lasciano scivolare quando raggiungono l'altro versante di queste sorprendenti colline eravamo due amici seguiti da otto spice e da quattro cammelli coi loro guidatori non parlavamo oppressi dall'afa dalla stanchezza inarititi dalla sete come quel deserto ardente improvviso uno dei nostri uomini lanciò uno strano grido tutti si fermarono e restammo senza muoverci sorpresi da un fenomeno inesplicabile conosciuto solo da chi viaggia in quelle sperdute contrade chissà dove eppure vicino a noi da una direzione che non si riusciva a determinare rullava un tamburo il misterioso tamburo delle dune rullava distintamente ora più ora meno vibrante interrompendosi ogni tanto ma subito dopo riprendendo il suo ritmo fantastico gli arabi spaventati si guardarono tra loro e uno disse nella sua lingua sopra di noi c'è la morte ed ecco che all'improvviso il mio compagno e amico più che un fratello per me cadde da cavallo a testa in giù fulminato da una insolazione e per due ore mentre cercavo inutilmente di salvarlo quel tamburo misterioso mi eccheggiò nelle orecchie col suo ritmo monotone intermittente incomprensibile io sentivo insinuarsi nelle ossa il terrore la vera paura la paura schifosa davanti a quel cadavere in quella buca incendiata dal sole tra quattro montagne di sabbia mentre un'eco sconosciuta ripercuoteva contro di noi a 200 leghe da qualsiasi villaggio il rullo veloce del tamburo quel giorno compresi che cosa sia aver paura e lo sappia anche meglio un'altra volta il comandante interruppe il narratore scusi signore ma quel tamburo che cos'era non ne so nulla nessuno lo sa gli ufficiali sorpresi da quel rumore singolare attribuiscono la causa a un'eco ingrandita smisuratamente ampliata dagli avvallamenti delle dune e prodotta da una grandinata di grani di sabbia trasportati dal vento a urtare contro qualche ciuffo d'erba secca poiché si è osservato che il fenomeno si produce sempre vicino a certi arbusti arsi dal sole e duri come cartapesta e dunque quel tamburo non sarebbe che una sorta di miraggio un miraggio sonoro tutto qui ma questo lo seppi soltanto più tardi vengo alla mia seconda emozione accadde l'inverno scorso in un bosco della francia nord orientale la notte era scesa con due ore d'anticipo tanto scuro era il cielo in un sentiero molto stretto avevo per guida un contadino che camminava al mio fianco sotto una cupola di abeti e cui un vento scatenato traeva lunghi lamenti fra le cime dei monti distinguevo correre nuvole in rotta certe nuvole impazzite che sembrava scappassero incalzate dal terrore a tratti tutto il bosco sembrava inclinarsi con un gemito di sofferenza sotto una raffica di vento molto forte il freddo mi passava da parte a parte nonostante il passo rapido e le vesti pesanti dovevamo andare a cena e fermarci a dormire da una guardia forestale la casa non era molto lontana da lì e io ci andavo per cacciare di quando in quando la mia guida alzava gli occhi e borbottava diavolo d'un tempaccio poi mi parlò della famiglia che ci avrebbe ospitato il padre aveva ucciso un braconiere due anni prima e da allora era sempre cupo come se fosse ossessionato da quel ricordo i suoi due figli entrambi sposati vivevano con lui le tenebre erano profonde non vedevo niente davanti a me né intorno a me tutto il frascame degli alberi si urtava in continuazione e riempiva la notte di un continuo fruscio finalmente scorsi una luce e subito il mio compagno bussava a una porta come risposta arrivarono acute grida di donne poi una voce maschile una voce rauca domandò chi è la mia guida disse il suo nome entrammo mai dimenticherò quel che vidi un vecchio dai capelli bianchi dall'occhio folle con un fucile calico in mano ci aspettava in mezzo alla cucina mentre due giovanotti armati di scure erano di guardia ai lati della porta negli angoli oscuri in fondo alla stanza distinsi due donne inginocchiate col viso rivolto verso il muro demmo le spiegazioni necessarie il vecchio riappoggiò il fucile alla parete e ordinò che mi fosse preparata una stanza ma poi visto che le due donne non si muovevano dette questa brusca spiegazione sa signore sono due anni stanotte da quando ho ammazzato un uomo l'anno scorso è venuto a chiamarmi e così l'aspetto anche questa notte concluse con un tono che provocò il mio sorriso ecco perché non siamo tranquilli fece del mio meglio per rassicurarlo ero felice ad essere arrivato proprio quella sera e di poter assistere a quello spettacolo di terrore superstizioso mi misi a raccontare qualche storiella e così mi riuscì di calmare almeno un poco tutta la famiglia accanto al focolare un vecchio cane mezzo cieco e baffuto uno di quei cagnazzi che somigliano a qualcuno di nostra conoscenza dormiva col muso tra le zampe una tempesta senza requie percoteva il casolare e da un finestrino stretto stretto proprio uno spiraglio accanto alla porta vedevo alla luce dei lampi un gruppo di alberi scompigliato dal vento nonostante tutti i miei sforzi percepivo chiaramente che un profondo terrore dominava gli animi di quelle persone una volta che smettevo di parlare tutte le orecchie si tendevano verso un punto molto lontano stanco di assistere a quei vani spaventi stavo per chiedere di andare a dormire quando la vecchia guardia forestale balzò improvvisamente dalla sedia e riafferrò il fucile sussurrando con evidente smarrimento eccolo eccolo lo sento le donne tornarono inginocchiarsi nel loro angolo nascondendo il viso i figli impugnarono di nuovo le scuri mi preparavo a calmarli ancora una volta quando d'improvviso si risvegliò il cane addormentato e tendendo il collo verso il fuoco e guardandolo con l'occhio quasi spento emise uno di quei lugubri ululati che la sera spaventano in campagna e gli andanti tutti ci volgemmo a guardarlo era rimasto immobile ritto sulle zampe come in preda una visione poi cominciò a urlare verso una cosa invisibile e spaventosa perché tutto il pelo gli si era rizzato livido in volto la guardia gridò lo sente lo sente mi ha visto ucciderlo anche le due donne si misero a urlare come forse nate all'unisono col cane mio malgrado un brivido mi corse tra le spalle lunghissimo la visione di quell'animale a quell'ora e in mezzo a quella gente terrorizzata era spaventosa per un'ora intera il cane urlò senza muoversi come nell'angoscia di un sogno premonitore la paura la schifosa paura mi invase paura di che cosa lo sapevo forse era la paura tutto qui i nostri visi erano violacei nell'immobilità e nell'attesa di qualcosa di tremendo con l'occhio teso il cuore in tumulto sempre più sconvolti a ogni minimo rumore il cane si mise a girare attorno alla stanza fiutando i muri e continuando a mugolare quella bestia ci faceva impazzire allora il contadino che mi aveva fatto da guida in una specie di parossismo furibondo gli si lanciò addosso la ferrò e lo getta fuori in un cortiletto interno il cane tacque di colpo noi rimanemmo immersi in un silenzio ancora più terrificante l'improvviso sussultammo tutti insieme qualcuno strisciava contro il muro esterno dalla parte del bosco poi passò verso la porta sembrò sfiorarla con mano tremula per due minuti non sentimmo più alcun rumore due minuti che ci portarono alla soglia della demenza quindi quella presenza misteriosa tornò a sfiorare il muro e grattò leggermente come farebbe un bambino con l'unchia ad un dito all'improvviso apparve contro il vetro del finestrino una testa bianca con occhi luminosi come quelli delle belve e dalla bocca uscì un suono indistinto un mormorio lamentoso fu un attimo un fragore improvviso rimbombò nella cucina il vecchio guardia boschi aveva sparato e subito i figli si precipitarono tapparono lo spiraglio rizzandovi contro il grande tavolo che poi puntellarono con la credenza vi giuro che allo scoppio della fucilata che non m'aspettavo ebbi una tale angoscia nel cuore nell'animo e nel corpo che mi sentii mancare prossimo a morire di terrore restammo così in attesa sino all'aurora incapaci di muoverci di dire una sola parola contratti da un orrore senza nome osammo rimuovere la barricata soltanto quando scorgemmo dalla fessura ad un'imposta un pallido raggio di luce ai piedi del muro contro la porta giaceva il vecchio cane col muso sfracellato dalla fucilata era uscito dal cortiletto scavandosi un varco sotto la palizzata l'uomo dal volto abbronzato tacque poi soggiunse quella notte non corse alcun pericolo eppure preferirei rivivere tutte le ore nelle quali ho affrontato situazioni davvero terribili piuttosto che il solo istante di quella fucilata sparata contro la testa villosa apparsa nello spiraglio la trepida notte discendeva lentamente le donne erano rimaste nel salotto della villa gli uomini seduti a cavalcioni sulle sedi del giardino fumavano dinnanzi alla porta facendo circolo intorno a una tavolata piena di tazze e di bicchierini i loro sigari brillavano come occhi nell'ombra che si infoltiva da un minuto all'altro era stata narrata proprio allora una terribile disgrazia accaduta il giorno prima due uomini e tre donne annegate sotto gli occhi degli invitati lì di fronte nel fiume orribile esclamò un invitato il generale di g sentenziò sì queste cose commuovono ma non sono orribili l'orribile questa antica parola vuol dire assai più che terribile una paurosa disgrazia come quella narrata commuove sconcerta impaurisce non atterrisce perché si proprio orrore più che la commozione dell'anima più quello spettacolo di un morto bisogna provare un fremito di mistero una sensazione di spavento anormale innaturale un uomo che muore anche nelle condizioni più drammatiche non suscita orrore un campo di battaglia non è orribile la vista del sangue non è orribile i delitti più vili di rado sono orribili ecco due esempi personali che mi hanno fatto comprendere che cosa si può intendere per orrore fu durante la guerra del 1870 ci ritiravamo dopo aver superato aurore l'esercito di ventimila soldati circa ventimila uomini in fuga sbandati fiduciati sfiniti andava a riorganizzarsi alle havre la terra era coperta di neve cadeva la notte dal giorno innanzi non avevamo mangiato più nulla fuggivamo celermente perché i prussiani non erano lontani tutta la campagna normanna livida chiazzata dalle ombre degli alberi che cendevano le case si distendeva sotto un cielo nero greve e sinistro nella luce opaca del crepuscolo non si odiva altro che un brusio confuso sorbo e tuttavia smisurato di grezze in cammino un trapestio infinito misto a un vago tintinnare di gamelle e di sciabole gli uomini curvi a coppie sporchi spesso anche stracciati si trascinavano arrancavano sulla neve con lunghi passi affranti la pelle delle mani si appiccicava all'acciaio del fucile perché quella notte gelava terribilmente spesso vedevo un moblot togliersi le scarpe per andare scalzo tanto soffriva coi piedi costretti nelle calzature e ogni orma lasciava una traccia di sangue poi di lì a poco sedeva in un campo per riposarsi qualche minuto che non accennava a rialzarsi un uomo seduto era un morto avevamo lasciati dietro di noi di quei poveri soldati che contavano ripartire non appena avessero un po riposato le loro gambe indurite invece appena avevano smesso di muoversi di far circolare il sangue quasi inerte nella carne raggelata un porpore invincibile li fermava l'inchiodava a terra chiudeva loro gli occhi paralizzava in un momento il meccanismo umano logorato e si lasciavano andar giù la fronte sulle ginocchia senza tuttavia cadere perché le spalle e le membra diventavano immobili duri come legno incapaci di rizzarsi o di piegarsi e noi altri più robusti andavamo sempre avanti presi nel gelo sino al midollo delle ossa procedendo come per forza d'inerzia in quella notte in quella neve in quella campagna fredda e mortale oppressi dal dolore dalla sconfitta dalla disperazione attanagliati più che altro dall'abominevole sensazione dell'abbandono della fine della morte del nulla scorsi due gendarmi che tenevano per le braccia un ometto strano vecchio senza barba l'aspetto veramente sorprendente credendo ad aver preso una spia cercavano un ufficiale la parola spia corse senz'altro fra i rimasti in coda e fu fatto cerchio attorno al prigioniero una voce gridò bisogna fucilarlo e tutti quei soldati che cadevano di sfinimento che stavano in piedi perché si appoggiavano sul fucile ebbero all'improvviso quel fremito di collera furioso e bestiale che spinge la folla all'eccidio voglio parlare ero allora comandante di un battaglione ma non si riconoscevano più i capi avrebbero fucilato anche me uno dei gendarmi mi disse a tutti chiede informazioni sull'artiglieria mi provai a interrogare quell'uomo che cosa fate che volete perché seguite l'esercito abbetò qualche parola in un gergo inintellegibile era davvero uno strano tipo dalle spalle strette dall'occhio sornione era così turbato dinanzi a me che non dubitai più che si trattasse di una spia sembrava molto agitato e debole mi considerava di sottecchi con un'aria umile stupida o scaltra gli uomini attorno a noi gridavano al muro al muro disse ai gendarmi rispondete del prigioniero non avevo finito di parlare che una spinta terribile mi rovesciò e io vidi in un secondo l'uomo afferrato dai soldati furiosi atterrato colpito tracinato sul ciglio della strada e gettato contro un albero cadde nella neve quasi già morto e subito venne fucilato i soldati sparavano su di lui scaricavano le armi sparavano di nuovo con un accanimento di belve si azzuffavano per poter tirare sfilavano davanti al cadavere e sparavano su di esso come si sfila dinanzi a una bara per gettare acqua benedetta ma ad un tratto corse un grido i prussiani i prussiani udì per tutto l'orizzonte il fagore immenso di tutto l'esercito che correva il panico nato da quelle fucilate su quel vagabondo aveva atterrito gli esecutori stessi i quali senza comprendere che lo spavento proveniva da loro fuggirono e scomparvero nel buio rimasi solo dinanzi al corpo esanime quei due gendarmi che il dovere aveva trattenuti presso di me sollevarono quella carne martoriata maciullata e sanguinante bisogna perquisirlo dissi e porsi una scatola di cerini che avevo in tasca uno dei soldati faceva l'uno e all'altro io stavo ritto tra loro due il gendarme che esaminava dichiarò vestito di un camiciotto turchino di una camicia bianca di un paio di calzoni e di un paio di scarpe il primo cerino si spense fu acceso il secondo rivoltando le tasche del giustiziato il gendarme riprese un coltello d'osso un fazzoletto a quadrette una tabacchiera un pezzo di spago un pezzo di pane il secondo cerino si spense fu acceso il terzo il gendarme dopo avere a lungo palpato il cadavere di carò nient'altro io dissi spoglialo forse troveremo qualcosa contro la pelle perché i due soldati potessero darsi da fare insieme mi misi io stesso a rischiararli li vedevo nella limpida luce del cerino che presto si estingueva togliere a uno a uno gli indumenti mettere a nudo quell'ammasso sanguinante di carne ancor calda e morta ed improvviso uno di essi esclamò per dio è una donna non saprei dirvi che strana e pungente sensazione d'angoscia mi sconvolse non potevo crederlo e mi incinocchiai nella neve finanzi a quell'ammasso informe per vedere era una donna i due gendarmi allibiti avviliti aspettavano che io emettessi il mio parere ma io non sapevo che pensare che supporre allora il brigadiere pronunziò lentamente forse è venuta a cercare il suo figuolo che era soldato d'artiglieria e del quale non aveva notizie e l'altro rispose potrebbe anche darsi e io che avevo pur visto cose terribili assai mi mise a piangere e sentì di fronte a quella morta in quella gelida notte in mezzo a quella nera pianura dinanzi a quel mistero dinanzi a quella sconosciuta assassinata quel che vuol dire questa parola orrore provai questa stessa sensazione lo scorso anno interrogando uno dei veterani della missione fletters un fuciliere algerino conoscete i particolari di quel dramma atroce ve ne è uno tuttavia che forse ignorate il colonnello andava nel sudan per il deserto e attraversava l'immenso territorio dei tuareg che in quell'oceano di sabbia che va dall'atlantico all'egitto e dal sudan all'algeria sono una specie di pirati paragonabili a quelli che un tempo infestavano i mari le guide che conducevano la colonna appartenevano alla tribù dei ciamba di urgala un giorno fu eretto il campo in pieno deserto e gli arabi dichiararono che essendo il pozzo ancora piuttosto lontano sarebbero andati a cercare l'acqua con tutti i cammelli un sol uomo prevenne il colonnello che egli era stato tradito fletters non gli credette e accompagnò la carovana con gli ingegneri i dottori e quasi tutti gli ufficiali essi furono trucidati attorno al pozzo e tutti i cammelli catturati il capitano dell'ufficio arabo di urgala rimasto al campo prese il comando dei superstiti space e fucilieri e fu iniziata la ritirata abbandonando i bagagli e i viveri poiché mancavano i cammelli per portarli si misero dunque in cammino in quella solitudine senza ombra e senza fine sotto il sole divorante che li arroventava dal mattino alla sera una tribù venne a fare atto di sottomissione e furono portati loro dei datteri erano avvelenati quasi tutti i francesi morirono e fra essi l'ultimo ufficiale non rimaneva più che qualche spice tra cui il maresciallo d'alloggio pobegin e alcuni fuciliari indigeni della tribù di chambà c'erano ancora due cammelli una notte essi scomparvero con due arabi i superstiti allora capirono che fra poco sarebbe stato necessario divorarsi l'un l'altro e non appena scoperta la fuga dei due uomini con due bestie coloro che restavano si separarono mettendosi a camminare isolati nella sabbia sotto la fiamma intensa del cielo oltre la portata dei rispettivi fucili andavano così tutto il giorno e quando fu raggiunto un pozzo ognuno vi andava a bere a turno non appena il più vicino aveva raggiunto la distanza necessaria andavano così tutto il giorno sollevando qua e là quelle piccole colonne di polvere che indicano di lontano i camminatori del deserto ma una mattina uno dei soldati d'un tratto obliquò avvicinandosi al suo compagno tutti si fermarono a guardare l'uomo verso cui marciava il soldato affamato non fuggì ma si appiattò a terra e prese di mira quello che veniva verso di lui quando lo credette a tiro sparò l'altro non fu colpito e continuò ad avanzare imbracciando a sua volta il fucile uccise di colpo il suo camerata allora da tutto l'orizzonte gli altri accorsero per avere la loro parte e colui che aveva ucciso fatto a pezzi il morto lo distribuì e si sparsero di nuovo quegli alleati irriconciliabili fino al primo omicidio che li avrebbe riuniti per due giorni vissero di quella carne umana ripartita poi tornata la fame quello che per primo aveva ucciso uccise di nuovo e di nuovo come un macellaio tagliò a pezzi il cadavere e lo offrì ai compagni conservando soltanto la sua parte così continuò quella ritirata di antropofaghi l'ultimo francese pobegin fu trucidato in riva un pozzo la vigilia del giorno in cui arrivarono i soccorsi capite ora ciò che io intendo per orribile ecco quanto ci raccontò l'altra sera il generale di g i clienti dell'albergo entravano lentamente nella grande sala da pranzo e si sedevano i camerieri cominciavano a servire con la stessa lentezza per permettere ai ritardatari di giungere in tempo e per non dover più tardi recare una seconda volta le stesse vivande i clienti più vecchi guardavano ogni schiudersi d'uscio il sopraggiunto in attesa di un viso nuovo è questa la maggior distrazione delle città climatiche si attende l'ora dei pasti per conoscere i nuovi villeggianti per indovinare chi sono ciò che fanno ciò che pensano un desiderio nasce in noi quello di incontri gradevoli di conoscenze piacevoli forse anche di amori e ogni vicino ogni sconosciuto assume una grande importanza la curiosità è vigile la simpatia in attesa la socievolezza in fermento se hanno antipatie di una settimana e amicizie che durano un mese si vedono le persone con occhi sempre diversi sotto un'ottica speciale si scoprono negli uomini a un tratto durante una conversazione dopo cena sotto gli alberi una intelligenza superiore e meriti eccezionali ma dopo un mese i nuovi amici così simpatici nei primi giorni sono già bello e dimenticati si formano però anche legami durevoli e seri più presto che in qualunque altro luogo ci si vede tutti i giorni ci si conosce molto presto e alla cordialità che comincia si mescola qualche cosa simile alla dolcezza e all'abbandono delle vecchie intimità più tardi si conserva il ricordo caro e commosso di quelle prime conversazioni attraverso le quali si fa la scoperta delle anime e si serve il ricordo dei primi sguardi che interrogano e rispondono alle domande ai pensieri segreti che la bucca ancora non dice il ricordo della prima confidenza cordiale il ricordo della deliziosa sensazione provata aprendo il proprio cuore a qualcuno che sembrava aprirvi il suo e la tristezza della stazione climatica la monotonia dei giorni sempre uguali rendono d'ora in poi più completo quello sbocciare d'affetti quella sera dunque come sempre aspettavamo l'ingresso di facce nuove ne entrarono due molto strane un uomo e una donna padre e figlia mi fecero l'impressione subito di due personaggi di edgar po quantunque notassi in loro una specie di suavità dolorosa me li immaginai come due vittime della fatalità l'uomo era alto magro un po curvo coi capelli bianchi troppo bianchi per il suo viso ancora giovane aveva nell'incedere in tutto il portamento un chiedi grave di austero di severo la figlia che dimostrava 24 25 anni era piccola magrissima pallidissima con un'aria stanca affranta accasciata se ne incontrano spesso di queste creature che paiono troppo deboli per le fatiche e le necessità della vita troppo fragili per muoversi per camminare per fare tutto ciò che ognuno fa di consueto era abbastanza bella ma di una bellezza diafana irreale mangiava con un'estrema lentezza come fosse incapace di muovere la macella era certo per lei che essi erano venuti alle terme si trovavano seduti proprio di fronte a me notai subito che il padre aveva un tic nervoso singolarissimo ogni qual volta stava per afferrare un oggetto la sua mano compiva una specie di moto convulso un zigzag febbrile prima di pervenire a toccare quel che cercava dopo un poco quel movimento mi esasperò tal punto che volse altrove il capo per non vederlo notai che la giovane aveva la mano sinistra coperta da un guanto dopo cena andai a fare un giretto nel parco dell'albergo eravamo in una stazioncina dell'alvernia a chateau guion una stazioncina nascosta in una gola ai piedi di un'alta montagna da cui si sprigionano sorgenti d'acqua calda scaturite dal focolare profondo di antichi vulcani quella sera faceva molto caldo passeggiavo sotto un viale alberato ascoltando dal poggio che domina il parco giungi raffievolita la musica dello stabilimento un tratto vi di venirmi incontro sullo stesso viale i due nuovi ospiti salutai come si è soliti salutare nelle stazioni climatiche i propri compagni di cura l'uomo subito si fermò chiedendo potresti indicarsi signore una passeggiata breve facile piacevole perdonate la mia indiscrezione mi offerse di condurli nel vallone dove sorgeva un esiguo corso d'acqua un vallone profondo una stretta gola chiusa tra due pareti rocciose e boschive e si accettarono e naturalmente il primo argomento ebbe per oggetto la virtù delle acque il padre diceva mia figlia ha una strana malattia della quale non si è riusciti a conoscere la causa soffre di accessi nervosi incomprensibili la ritengono ammalata ora di cuore ora di fegato ora affetta da un indebolimento della spina dorsale i medici affermano oggi che si tratta di mal di stomaco ecco perché siamo qui io credo invece che si tratti piuttosto di nervi in ogni caso signore è una faccenda seria mi ricordai subito del tic violento della sua mano e chiesi non è forse ereditario il male di cui soffre la signorina non siete anche voi ammalato dello stesso male rispose pacatamente io io ho sempre avuto in albi a posto poi subitamente colpito aggiunse ah volete forse alludere alla contrazione della mia mano è la conseguenza ad una terribile emozione che ho provato figuratevi che questa povera figliuola mi è stata sepolta viva diede un'esclamazione di stupore e di commozione e gli riprese subito ecco come si sono svolti i fatti juliette se chiama così la mia figliuola soffriva da tempo di gravi disturbi di cuore sapendola affetta da questa pericolosa malattia mi preparai a tutte le sorprese un giorno me la riportarono in casa di accia esanime morta era poco prima venuta meno in giardino il medico ne constatò la morte vegliai presso di lei un giorno e due notti la conciai con le mie stesse mani nella bara che accompagnai sino al cimitero dove la fece inumare nella tomba di famiglia eravamo in piena campagna in lorena avevo voluto fosse sepolta con tutti i suoi gioielli braccialetti anelli tutti i doni che avevo fatto e con la sua prima veste da ballo pensate in quale stato fosse la mia anima quando rincasai non avevo altro che lei poiché ero vedovo da lungo tempo ritornai dal camposanto solo estenuato quasi folle allorché fui nella mia camera mi abbandonai su una poltrona senza un pensiero senza la forza di fare un movimento non ero più che una macchina dolorosa vibrante straziata la mia anima somigliava a una piaga viva il mio vecchio domestico prosper che mi aveva aiutato a deporre nella bara juliet e ad adornarla per il suo ultimo sonno entrò ad un tratto senza far rumore e chiedendo signore volete prendere qualcosa fece un segno negativo col capo insistete avete torto signore vi farà male star tanto tempo digiuno volete che vi aiuti a colicarvi no lasciami solo uscì chiudendosi dietro l'uscio quante ore trascorsi in quello stato d'animo non lo so che notte che notte faceva freddo il fuoco si era spento nel caminetto e il vento un vento invernale di accio batteva contro le finestre con un rumore sinistro quante ore trascorsero così ero insonne affranto accasciato con gli occhi sbarrati le gambe allungate il corpo afflosciato lo spirito intontito dalla disperazione ad un tratto il campanello della porta d'ingresso suonò ebbe un tale sobbalzo che la poltrona cigolò sotto di me suono grave e pesante che già nel castello come in un sepolcro vuoto mi voltai per vedere l'ora al mio orologio erano le due del mattino chi poteva essere a quell'ora il campanello suonò di nuovo i domestici non osarono alzarsi per andare a vedere chi fosse presi un lume e discesi ero in procinto di chiedere chi è ma poi ebbi vergogna del mio timore e tirai lentamente il chiavistello il cuore mi batteva forte avevo paura sì ma persi di colpo la porta scorsi allora nell'ombra una forma bianca ritta un fantasma indietreggiai sconvolto dall'angoscia balbettando chi 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 è ma una voce rispose sono io babbo era mia figlia era mia figlia mi credette impazzito ad un tratto arretra inciampando dinanzi allo spettro che si inoltrava facendo con la mano un gesto come per scacciarlo quel gesto che mi avete veduto fare a tavola e che non mi ha mai più abbandonato l'apparizione riprese non aver paura babbo sono io juliette non sono morta guardami hanno voluto togliermi gli anelli tagliandomi un dito il sangue ha ripreso a colare e mi sono risvegliata guardami babbo mi accorso infatti che il aveva tutte le vesti insanguinate cadde i genocchioni affannato singhiozzante poi quando riuscì a riavermi ma non ancora a sufficienza per capire tutta la felicità che mi era dispensata feci salire juliette nella mia camera la feci sedere nella mia poltrona quindi premetti il campanello per chiamare prosper perché venissi a riaccendere il fuoco e andassi a chiamare un medico prosper entrò guardò mia figlia aperse la bocca in uno spasimo di terrore e di orrore poi si arrovesciò all'indietro stecchito morto di colpo era stato lui ad aprire il sepolcro a mozzare il dito alla mia juliette lui che aveva sempre avuto la mia fiducia vedete signora come siamo stati provati duramente tacque la notte era calata avvolgendo il piccolo vallone solitario e triste una paura misteriosa mi avviluppò il cuore sentendomi vicine quelle due strane creature la rediviva e il padre dai gesti inquietanti non trovavo parole mormorai che cosa orribile poi dopo un poco aggiunsi se ritornassimo fa un poco freddo e ci incamminammo verso l'albergo al momento della morte aveva raggiunto il grado di presidente della corte di cassazione era un magistrato integerrimo la cui vita senza macchia veniva citata come esemplare in ogni tribunale francese gli avvocati i giovani consiglieri i giudici s'inchinavano profondamente in segno del massimo rispetto alla sua alta figura bianca e asciutta illuminata da due grandi occhi dallo sguardo profondo aveva trascorso la vita punendo i delinquenti e proteggendo gli indifesi truffatori assassini non avevano nemico più spietato poiché egli sembrava leggesse nel fondo delle anime loro i pensieri più nascosti e svelasse con un'occhiata tutti i loro sotterfugi intenzionali così era morto a 82 anni ossequiato da tutti e rimpianto da tante persone soldati in alta uniforme lo avevano scortato sino alla tomba e uomini in cravatta bianca avevano sparso sul suo monumento funebre parole di desolazione e lacrime che sembravano vere ebbene ecco lo strano documento che il notaio al colmo dello sballordimento scovò nello scrittorio in cui il magistrato era solito riporre gli incartamenti relativi ai grandi delinquenti quel documento aveva un titolo perché? 20 giugno 1851 torno ora dal tribunale ho fatto condannare a morte Blondel perché mai quest'uomo ha ucciso i suoi cinque figli? perché? ho incontrato spesso persone per le quali la distruzione di una vita è uno dei maggiori piaceri già deve essere come una volutà forse la maggiore tra tutte e infatti uccidere è quanto c'è di più vicino a creare creare e distruggere queste due parole racchiudono la storia dell'universo tutta la storia del mondo tutto ciò che può esistere tutto perché uccidere deve essere così inebriante? 25 giugno pensare che lì sia un essere il quale vive, cammina, corre un essere che cos'è mai un essere? è la cosa animata che porta in sé il principio del moto è una volontà che regola il moto non ha vincoli di sorta i suoi piedi non toccano il suolo è un granello di vita che si muove sulla terra e questo granello di vita venuto non si sa da dove può essere distrutto come si vuole resta allora il nulla il nulla assoluto l'essere imputridisce e basta 26 giugno perché dunque uccidere dovrebbe essere un delitto? già perché è invece una legge naturale ogni essere ha la missione di uccidere uccidere è insito nella nostra natura le bestie non fanno che uccidere uccidono per vivere e uccidono per uccidere tutto il giorno in ogni istante della loro esistenza un uomo uccide continuamente per cibarsi ma poiché ha anche bisogno di uccidere per volutà ha inventato la caccia un bimbo uccide gli insetti che trova e ogni sorta di animaletti che gli capitano sotto mano ma questo non basterebbe all'irresistibile necessità di strage connaturata in noi uccidere gli animali non ci appaga abbiamo bisogno di uccidere l'uomo un tempo questa necessità veniva pagata con i sacrifici umani oggi le esigenze della vita sociale hanno fatto dell'uccisione un delitto e l'assassino viene condannato e punito ma poiché non possiamo vivere rinunciando a questo naturale imperioso istinto di morte ogni tanto ci sfughiamo con una guerra nella quale un popolo intero sgozza un altro popolo e allora è un'orgia di sangue un'orgia in cui impazziscono gli eserciti un'orgia nella quale si inebriano anche i borghesi le donne e i ragazzi che la sera sotto la lampada leggono l'esatto resoconto delle stragi si potrebbe credere che la vergogna dovrebbe schiacciare coloro che sono destinati a eseguire carneficine di esseri umani no li si colma di onori li si veste d'oro e di stoffe smaglianti e si portano piume sul capo decorazioni sul petto a loro vengono conferite croci di guerra ricompense e titoli d'ogni sorta sono orgogliosi, rispettati amati dalle donne acclamati dalle folle soltanto perché hanno avuto la missione ufficiale di versare sangue da altri uomini e si mostrano, imparata per le strade e i loro strumenti di morte che il passante in abiti borghesi guarda con invidia perché uccidere è la legge fondamentale che la natura pone nel cuore umano non c'è niente di più entusiasmante niente di più onorevole che uccidere 30 giugno uccidere è lezze poiché la natura ama l'eterna giovinezza essa sembra urlare in ogni suo atto primordiale presto, presto, presto più si distrugge più si rinnova 2 luglio l'essere che cos'è l'essere? tutto e niente per il pensiero filosofico è il riflesso di tutto per le memorie per le scienze è un compendio dell'universo di cui si porta in sé la testimonianza storica specchio delle cose e specchio dei fatti ogni essere umano diventa un piccolo universo nell'universo ma viaggiate osservate il formicolare di tutte le razze e allora l'uomo non è più nulla più nulla più nulla salite in barca allontanatevi dalla riva aggremita di gente presto non scorgerete più che la costa l'essere umano diventa impercettibile scompare tanto è minuscolo e privo di significato traversate l'Europa in un treno rapido e guardate dal finestrino uomini uomini ancora uomini innumerevoli sconosciuti che brulicano nei campi che brulicano nelle strade stupidi contadini che sanno appena dissodare la terra donne schifose che sanno appena fare la minestra per maschi e generare andate in India andate in Cina e vedrete anche lì agitarsi milioni di esseri che nascono vivono e muoiono senza lasciare traccia maggiore di quella che lascia una formica schiacciata per via andate nei paesi della razza nera dove ci si ripara in capanne di fango nei paesi degli arabicchiali di pelle dove ci si metta al riparo sotto una tenda grezza che ondeggia al vento e capirete che l'essere singolo isolato non è niente assolutamente niente la razza è tutto che cos'è l'individuo l'oscuro individuo di una tribù che erra nel deserto queste popolazioni nella loro saggezza non temono la morte per loro l'uomo come individualità non conta nulla si uccide un nemico è la guerra la stessa cosa che una volta da noi opponeva castello provincia a provincia girate il mondo osservate il lavorio di tante esistenze umane sconosciute sconosciute ecco la chiave del problema uccidere è un delitto in quanto abbiamo numerato gli individui quando nascono vengono registrati si da loro un nome vengono battezzati la legge li fa suoi invece un individuo che non è registrato non conta si può uccidere in una landa o nel deserto in montagna o in pianura che importanza ha la natura ama la morte non punisce lei lo stato invece può uccidere perché ha il diritto di modificare l'anagrafe quando ha fatto massacrare 200.000 uomini in una guerra li cancella dallo stato civile li sopprime per mano di un burocrate è finita ma noi noi che non possiamo mutare le registrazioni comunali noi dobbiamo rispettare la vita stato civile divinità gloriosa che imperi nei templi della municipalità io ti saluto tu sei più forte della natura 3 luglio uccidere deve dare un piacere strano un piacere intenso avere davanti a sé un essere vivente pensante far dentro di lui un buchetto soltanto un buchetto veder scorrere quella cosa rossa che chiamiamo sangue il sangue che forma la vita e avere dopo davanti a sé solo un mucchio di carne fredda molle inerte vuota di pensiero 5 agosto se io che ho passato tutta la vita a giudicare condannare uccidere con la mia parola e uccidere con la ghigliottina quelli che a loro volta avevano ucciso quel coltello se io io facessi come tutti gli assassini che ho condannato io io chi mai potrebbe venire a saperlo 10 agosto chi verrebbe mai a saperlo chi potrebbe sospettare di me di me specie se scegliessi qualcuno che non avesse interesse a sopprimere 15 agosto la tentazione è entrata dentro di me come un verme che striscia striscia avanza serpeggia in tutto il mio corpo nell'animo mio che ormai pensa soltanto a questo uccidere nei miei occhi che hanno bisogno di vedere il sangue di veder morire nelle mie orecchie dove risuono senza posa un sussurro sconosciuto orribile straziante sconvolgente l'ultimo grido di un essere umano nelle mie gambe che fremono dal desiderio di andare di andare sul luogo dove avverrà la cosa nelle mie mani che rabbrividiscono per il bisogno di uccidere uccidere piacere raro degno ad un uomo veramente libero e superiore a tutti gli altri padrone delle proprie passioni e anelante raffinate sensazioni 22 agosto non potevo più resistere ho ammazzato una bestiola per provare per cominciare jean il mio domestico aveva un cardellino in una gabbia sospesa alla finestra della dispensa l'ho mandato fuori per una commissione e ho preso in mano l'uccellino sentivo battere il suo cuore nella mano l'uccellino aveva caldo sono salito in camera mia ogni tanto lo stringevo più forte e il suo cuore batteva più veloce era atroce era stupendo stavo per soffocarlo ma così non avrei veduto il sangue allora ho preso le forbici quelle per le unghie gli ho tagliato la gola con tre colpi ad agio ad agio apriva il becco si dibatteva per scappare ma io lo tenevo oh come lo tenevo stretto l'avrei tenuto prigioniero un mastino idrofobo ho visto scorrere il sangue bello rosso riuscente limpido avevo voglia di berlo vi ho tuffato la punta della lingua buono ma ne aveva così poco quel povero uccellino non ho avuto il tempo di eccitarmi a quella vista come avrei desiderato vedere un toro che si dissangua deve essere uno spettacolo superbo e poi ho fatto come gli assassini come i veri assassini ho lavato le forbici mi sono lavato le mani ho buttato l'acqua e ho portato quel corpicino morto in giardino l'ho sepolto sotto una macchia di fragole nessuno lo troverà mai e io manzerò ogni giorno una fragola di quella macchia davvero come si può godere la vita quando si conoscono certi piaceri il domestico ha pianto crede che l'uccellino sia fuggito come potrebbe sospettare di me 25 agosto bisogna che uccida un uomo è necessario 30 agosto l'ho fatto sono deluso ero andato a fare una passeggiata nella foresta di Vernet non pensavo niente no proprio niente ed ecco sul mio sentiero un ragazzino mangiavo una fetta di pane imburrato si ferma per lasciarmi passare e dice buongiorno signor presidente subito un pensiero si fa luce nella mia mente se lo uccidessi rispondo sei solo ragazzo mio sì signore solo solo nella foresta sì signore ero ebro come se avessi bevuto per il desiderio di uccidere mi avvicinai a lui pian piano convinto che sarebbe scappato ecco che l'afferro alla gola stringo stringo con tutta la mia forza mi ha guardato con occhi terrorizzati gli occhi rotondi profondi limpidi terribili non ho mai provato un'emozione tanto forte ma anche così breve teneva i miei polsi nelle sue manine il suo corpo si contorceva come una piuma sul fuoco poi non si è più mosso il mio cuore batteva forte il cuore dell'uccellino ho buttato il corpo in un fosso e poi l'ho sparso sopra delle frasche sono tornato a casa ho mangiato con buon appetito una cosa da niente alla sera ero allegro leggero ringiovanito ho passato la serata in casa del prefetto hanno trovato tutti che ero in vena di spiritosaggini ma non ho veduto il sangue comunque adesso sono tranquillo 30 agosto hanno trovato il cadavere cercano l'assassino primo settembre hanno arrestato due vagabondi però mancano le prove 2 settembre i genitori del ragazzino sono venuti da me hanno pianto 6 ottobre non si è trovato nulla sarà stato qualche vagabondo se avessi visto scogliere il sangue adesso mi pare potrei essere tranquillo 18 ottobre il desiderio di uccidere mi serpeggia nelle midolla è una sensazione simile a quella delle crisi d'amore che si provano sui 20 anni 20 ottobre un altro dopo colazione camminavo in riva al fiume ho intravisto un pescatore addormentato sotto un salice era poco dopo mezzogiorno c'era una vanga che sembrava messa lì apposta infissa in un campo di patate l'ho presa sono tornato indietro l'ho alzata come una mazza e con un colpo solo col ferro gli ho spaccato la testa quanto sangue questa volta sangue verbiglio pieno di materia cerebrale scorreva scorreva anche nel fiume ad agio ad agio mi sono allontanato con passo sicuro se qualcuno mi avesse visto sarei potuto diventare un assassino perfetto 25 ottobre l'episodio del pescatore fatto scalpore accusano del diritto a un nipote che era andato a pesca col morto 26 ottobre il giudice istruttore sostiene che il nipote è colpevole in città ne sono tutti convinti 27 ottobre il nipote si difende molto male sostiene che era andato al villaggio per comprare del pane e del formaggio giura che lo zio è stato ammazzato mentre lui era via chi lo crederà 28 ottobre gli hanno fatto perdere la testa a un punto tale che ha quasi confessato ah ah la giustizia 15 novembre hanno trovato prove schiaccianti contro il nipote che avrebbe ereditato i beni dello zio io presiederò la corte d'assise 25 gennaio a morte a morte l'ho fatto condannare a morte il pubblico ministero ha parlato come un angelo un altro andrò a vederlo mentre gli mozzeranno la testa 18 marzo è fatta l'hanno ghigliottinato stamattina è morto bene anzi benissimo come sono contento è bello vedere tagliare la testa ad un uomo il sangue è sprizzato come un'ondata sì come un'ondata se avessi potuto avrei voluto farsi il bagno dentro deve essere inebriante rotolarsi a terra là sotto quel getto riceverlo nei capelli e sulla faccia e diventare rosso rosso ah se sapessero ora aspetterò posso aspettare ci vorrebbe poco a farmi scomparire il manoscritto conteneva molte altre pagine ma in esse non si faceva menzione di altri delitti gli alienisti a cui è stato sottoposto questo testo sostengono che nel mondo esistono molti dementi che vengono ignorati da tutti sono scaltri e terribili come questo pazzo mostuoso l'avevo amata alla follia perché amiamo non è strano che per qualcuno esista al mondo un solo altro essere un solo pensiero un solo desiderio e che sulla sua bocca ci sia un nome solo un nome che viene di continuo alle labbra un nome che ne prorompe come l'acqua da una sorgente che sale dalle profondità dell'anima e viene detto ripetuto mormorato ininterrottamente dovunque come una preghiera non racconterò qui la nostra storia l'amore ne ha una solamente sempre la stessa l'avevo conosciuta e me ne ero innamorato tutto qui e avevo vissuto un anno nella sua tenerezza tra le sue braccia nelle sue carezze nel suo sguardo nelle sue vesti nelle sue parole affiluppato legato incatenato in tutto quanto veniva da lei così completamente che non sapevo più se fosse giorno o notte se ero vivo o morto se ero sulla terra o altrove e un giorno e la morì come non so più in una sera di pioggia fece ritorno a casa tutta bagnata e il giorno dopo tossiva tossì un'intera settimana poi si mise a letto che cosa accade non lo so i medici venivano scrivevano ricette andavano via qualcuno portava medicina e una donna gliele faceva prendere le sue mani scottavano la fronte era madida e ardente lo sguardo lucido e triste le parlavo mi rispondeva che cosa ci dicevamo non so più ho dimenticato tutto tutto quando morì ricordo il suo sospiro lieve quel lieve sospiro tanto debole l'ultimo l'infermiera disse ah e io compresi compresi non seppi più nulla nulla vedi un prete che pronunciò una parola la vostra amante mi sembrò che la insultasse dal momento che era morta non avevano più diritto di ricordare quella formalità lo scacciai ne venne un altro che fu molto buono molto gentile piansi quando mi parlò di lei mi chiesero mille cose a proposito del funerale non so più ma ricordo benissimo la bara il rumore delle martellate quando inchiodarono il coperchio addio dio mio fu sotterrata sotterrata lei in quella fossa erano presenti alcune persone amici fuggì correvo camminai a lungo per le strade poi tornai a casa e il giorno dopo mi misi in viaggio ieri sono tornato a parigi quando ho rivisto la mia camera la nostra camera i nostri mobili il nostro letto quella casa dove era rimasto tutto quel che rimane della vita ad una persona dopo la sua morte mi riprese un dolore tanto violento che poco mancò aprissi la finestra e mi buttassi giù nella strada non potendo più rimanere in mezzo a quelle cose tra quelle pareti che l'avevano riscaldata e protetta e che nei loro spazi anche i più piccoli dovevano conservare mille atomi di lei della sua carne del suo respiro presi il cappello per fuggire via di colpo mentre stavo andando verso la porta passai davanti alla grande specchiera che l'aveva fatto mettere nell'ingresso per vedersi dalla testa ai piedi ogni giorno ogni volta che usciva per osservare se tutto era in ordine nel suo abbigliamento dagli stivaletti alla pettinatura mi fermai lì basito di fronte a quello specchio che l'aveva riflessa tante volte tante e tante volte che doveva averne conservata l'immagine e me ne stavo lì in piedi lo sguardo fisso sulla fragile lastra su quel cristallo piano e profondo ormai vacuo ma che l'aveva contenuta tutta intera l'aveva posseduta come me posseduta quanto il mio sguardo appassionato e fremetti mi sembrò d'amare quello specchio lo toccai era gelido oh il ricordo il ricordo immagine dolorosa immagine bruciante immagine vivente orribile immagine che fa soffrire mille torture felici gli uomini che hanno un cuore simile a uno specchio dove i riflessi scivolano via e si cancellano un cuore che dimentica tutto ciò che ha contenuto tutto ciò che gli è passato davanti tutto ciò che hanno contemplato affettuosamente o con amore mi sento male sono uscito e il mio malgrado senza rendermene conto senza volerlo minimamente fare sono andato verso il cimitero ho ritrovato la semplice tomba di lei una croce di marmo che recae incise queste brevi parole amò fu amata e morì e lei era sotto imputridita che orrore si inghiozzavo la fronte sulla lapide mi sono trattenuto a lungo molto a lungo poi mi sono accorto che giungeva il tramonto allora un desiderio particolare un desiderio folle un desiderio degno di un amante disperato si è impadronita di me ho voluto passare la notte vicino a lei un'ultima notte a piangere sulla tomba ma mi avrebbero visto e mi avrebbero fatto uscire come fare? ebbi un'idea mi alzai e cominciai a girovagare in quella città popolata da persone che non sono più su questa terra ho camminato ho camminato come piccola questa città a paragone dell'altra quella in cui viviamo eppure questi morti sono più numerosi dei vivi a noi occorrono grandi case strade piazze per le quattro generazioni che guardano il sole contemporaneamente bevono l'acqua delle sorgenti il vino dei vigneti e mangiano il pane dei campi di grano e per tutte le generazioni dei morti per tutta l'umanità discesa fin qua giù quasi niente un pezzetto di terra quasi niente la terra li riprende l'oblio li cancella addio all'estremità di quella parte di camposanto più frequentato scorsi all'improvviso il cimitero abbandonato quello dove coloro che sono defunti da tanto tempo terminano di mescolarsi alla polvere dove persino le croci di legno stanno marcendo il cimitero dove domani metteranno i morti futuri è pieno di rose selvatiche di cipressi scuri e robusti una specie di giardino abbandonato triste e magnifico un giardino che si nutre di carne umana lì ero solo assolutamente solo mi nascosi dietro una pianta verdeggiante appiattendomi tra quei rami grassi e scuri e attesi avvinghiato al tronco come un naufrago arrottame quando fu notte piena notte fonda lasciai il mio rifugio e mi misi a camminare tranquillamente ma senza far rumore su quel suolo popolato da morti rai a lungo a lungo a lungo non mi riusciva di rintracciarla le braccia tese gli occhi sbarrati urtando nelle tombe con le mani coi piedi con le ginocchia col petto e perfino e perfino con la testa andavo avanti senza trovarla toccavo brancicando come un cieco che cerca la sua strada percepivo lapidi croci ringhieri di ferro ghirlande di fiori avvizziti leggevo i nomi con le dita facendole passare sulle lettere che notte non riuscivo a ritrovarla neanche luna una notte spaventosa avevo paura una paura atroce per quei sentieri così stretti tra due file di sapoltri tombe 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 sempre tombe a destra a sinistra davanti a me intorno a me dovunque tombe mi sedetti su una di esse poiché non potevo più camminare dato che le mie ginocchia si piegavano per la stanchezza sentivo che il mio cuore batteva più forte e sentivo anche altre cose quali? un rumore confuso indescrivibile era nel mio cervello sconvolto nella notte impenetrabile o sotto la terra misteriosa sotto la terra asseminata di cadaveri quel rumore mi guardavo attorno quanto tempo sono rimasto là non lo so ero paralizzato dal terrore ebro di spavento sul punto di urlare sul punto di morire ed improvviso mi parve che la lastra di marmo su cui ero seduto cominciasse a muoversi si muoveva come se qualcuno la stesse sollevando non basso mi spostai sulla tomba vicina e vidi sì vidi alzarsi verticalmente la lastra che avevo appena lasciato e il morto apparire uno scheletro ignudo che la sollevava con le spalle curve lo vedevo lo vedevo con chiarezza benché quella fosse una notte tenebrosa potrei leggere sulla croce qui riposa Jacques Oliven deceduto in età di 51 anni amava la famiglia era buono onesto morì nella pace del signore anche il morto leggeva le frasi scritte sulla sua tomba poi raccolse un sasso sul sentiero un sasso a guzzo e cominciò a cancellare grattandole via tutte quelle parole le cancellò completamente con lentezza fissando con le occhiaie vuote il punto dove prima erano incise poi con la punta dell'osso che era stato il suo indice scrisse in lettere fosforescenti come quelle che si tracciano sui muri con i fiammiferi qui riposa Jacques Oliven deceduto in età di 51 anni con cattiveria frettò la morte del padre dal quale desiderava ereditare tormentò la moglie e i figli imbrogliò i vicini di casa e rubò quanto gli fu possibile morì miserabile quando ebbe finito di scrivere il morto rimase immobile a contemplare l'opera sua mi volsi indietro e mi accorsi che tutte le tombe si erano scoperchiate e tutti i cadaveri ne erano usciti e tutti avevano cancellato le menzogne scritte dai parenti sulle lapidi tutti avevano ristabilito la verità vedevo in tal modo che tutti erano stati carnefici dei propri congiunti astiosi disonesti ipocriti bugiardi canaglie calugnatori invidiosi tutti avevano improgliato rubato compiuto tutti gli atti più abominevoli quei buoni padri quegli sposi fedeli quei figli devoti quelle fanciulle caste quei commercianti probi quegli uomini e quelle donne irreprensibili sulla soglia della loro dimora eterna adesso avevano scritto tutti la crudele la terribile la santa verità che tutti ignorano o fingono di ignorare su questa terra mi venne in mente che anche la donna amata aveva dovuto tracciarla sulla sua tomba e senza paura ormai correndo tra i loculi semi aperti tra cadaveri e scheletri andavo verso di lei sicuro che questa volta l'avrei rintracciata la riconobbi da lontano anche senza vederne il volto che era ancora avvolto nel sudario e sulla cruce di marmo dove poco prima avevo letto amò fu amata e morì scorsi uscì di casa per tradire il suo amante prese freddo sotto la pioggia e morì a quanto pare fui raccolto all'alba inanimato accanto a una tomba lontano o la lontano che mi si mi mi si mi si si mi Grazie a tutti.